Buonasera Power Games Tryharder del minuto zero Prima della notifica Buonasera, buonasera Oh mazzino Buonasera Buonasera, buonasera a tutti boys Buonasera, 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 buonasera Bella Gianda Tube Buonasera Max Buonasera Gladiatore Buonasera Simone Buonasera boys Per me la tua giocca è da 9 meno Solo più link di nazionalità, è vero Ma vi racconto pure un bel sivarietto Sulla mia giacca di ieri sera Buonasera Padilla No, tutto a posto Ma in realtà non era l'angolo, era solo sonno Proprio banale Banane, buonasera Nunzio Buonasera Templare No, io non ho fatto quello con 99 di tiro Non ho fatto quello Ho fatto solo Maggi Anniversario Stavo giocando alla Weekend League Ed ho visto che era ora di collegarsi Let's go Buonasera, buonasera Era una scusa per dormire di più Ma in realtà io mi sono svegliato alle 10 Sono andato a dormire, penso più o meno alle 5, 5 e mezza Mi sono svegliato alle 10 e ho detto Oh, vabbè, ma non stavo a casa Ma vado a casa e attacco stream Però poi mi sono riaddormentato Tu entrambi ed è una spada Buonasera, macellaio Buonasera Allora, praticamente Almeno è dormito Io mi sono svegliato alle 7 e 30 Per vedere le Claire Cotta No, ma infatti Infatti domani mattina non Ah, ma io mi sono dimenticato di fare una roba Infatti domani non Non mi sveglierò mai Per fare la Per guardare la corsa Non me ne frega Non me ne frega assolutamente niente Tanto già lo so Ti vado a vedere il tiltare giù Mamma mia Non so se avete sentito Qualcosa di 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 indecente Allora, come si chiamano queste Altoparlanti Razer USB Eccolo qua Io non so se avete sentito Quello che è successo a Juon Mo Un paio di ore fa Allora, signori Ehm Scandalo EA Boh, io sono Sono allibito Boh, vabbè Che vi devo dire Che vi devo dire Che vi devo dire Allora, la La questione della mia giacca di ieri Praticamente stavo Nel centro storico di Napoli Appena Appena Arrivati quasi Stavamo per parcheggiare Io ero un passeggero Non guidavo E ci fermava la polizia Ci stava questo Per fare un controllo Sai Patente Libretto Corte d'identità Se robe così Praticamente Con questo cappotto qua Con la lag viola Ciao Fabio Buonasera Il poliziotto vi dice Ma no Ma io Come fai Ci siamo messi a parlare Praticamente del mio cappotto Per tutto il Fermo Per tutto il controllo Che c'è stato a fare Ma come fai È troppo caldo Eccetera eccetera Buonasera Anonymous Buonasera Non sai niente Gli sono stati azzerati 93 milioni di crediti Per motivi Ovviamente Inesistenti E vabbè È che dobbiamo fa Allora Signori Parliamo delle cose Che ci competono Allora 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 Ascoltate bene Poi vi faccio Allora vi faccio Sicuramente un video Di recappo In serata E magari ve lo faccio uscire Domani Sulle evoluzioni Poi magari esce pure Qualche evoluzione Stasera E lo facciamo Di accompagnamento Le evo interrotte Non si possono fare più Che cosa significa Perché c'è un però Poi ve lo spiego bene Nel video youtube E ovviamente Va testata questa roba Buonasera Toto Buonasera Pugliano Le evo interrotte Non me le fa Più inserire All'interno Di Di O meglio Le Allora Le evo Scadute E non riscattate All'ultimo livello Non me le fa Inserire In altre Evoluzioni Io l'ho riscattato Tube Perché Perché Siamo arrivati All'ultimo Livello Di quella Evoluzione Come Facciamo l'esempio Di crouch Ok Che io ce l'ho Ce l'ho già Completato Un livello No E sto facendo Il livello 2 Il 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 problema Sorge Quando noi Finiamo E completiamo Il livello 3 E non lo riscattiamo Lì non ci fa mettere La evoluzione All'interno Di una seconda evoluzione Ciao Giacomo Buonasera Donkals Cosa succede Però Che se noi Lasciamo Le evoluzioni Incomplete Al livello 1 E al livello 2 Poi ce le fa inserire All'interno Della Di una successiva Evoluzione Vedi la grafica Della card La vedi Qui È verde scuro E qua invece Questo verde è chiaro Quando tu sei con Questo verde scuro Qua Non ti fa inserire La card Perché ti dice Che c'è Un'evoluzione In corso Quando tu sei Con questo verde Qui Invece Si Difatti Io C'ho Non mi ricordo In quale Evoluzione Tipo qua Centrale Elegante Se non mi sbaglio Io posso Inserire Io posso Inserire Medina Me lo fa inserire Mi fa inserire Anche Mucchiele Se non erro Eccolo qua E vedi Non mi dice Che io Ho un'evoluzione Già in corso Ne sono altamente Certo Sì Perché come puoi ben vedere E queste Queste evoluzioni qua Attenzione Questo Mucchiele Questo qua Verde Aspetta Questo Mucchiele Qua E anche Questo Medina Sono dei giocatori Inseriti Nelle vecchie Evo Dei difensori Centrali Emo se è bloccato Il gioco Verso l'account Di telegram E di conseguenza I gruppi E rifai da capo E fai Slash reset Le slash Start Poi Dell Dell'account Luca Buonasera Datatore Buonasera Come il mio Guarda che sono Arrivato solo All'84 E te lo fa Mettere Nella Evo Corretto Deve rientrare Possibile Recuperare tutto Sì sì certo Non ti preoccupare Hai rischiato Tre volte Di addormentarmi Durante il primo Tempo del derby Molto bene Tra Socrates Drogba Cryf E Cantona Nel 4.2.1 Socrates Cantona E Drogba Che stai facendo Che stai facendo tu Con Bird Day Magic Aspetta Mo ti faccio vedere Rossiccio Non ho capito Come fare Devi recuperare Innanzitutto L'account Telegram Nuovo Devi Digitare Qua in chat Punto Esclamativo Gruppi E con L'account Nuovo Fai tutta La procedura Come l'hai fatta Precedentemente Con L'account Nuovo Rimettendo Le credenziali Dell'account Nuovo Rimettendo Le credenziali Dell'account Twitch Eccetera Meio Petit O Gerard Fidustars Cdc Petit Cc Gerard Poi una sera Picci Allora Io Nella Bird Day Magic Avevo La mia intenzione Era quella Di mettere Un Gakpo E un Ferran Torres Interrotti Che però Non mi ha fatto Inserire Perché erano Delle evoluzioni Interrotte All'ultimo step Cioè Finite All'ultimo step Come se io volessi Arrivare al livello 3 su 3 Vedi Completato Quindi vincendo Due partite E vincendo due partite Con almeno due Col discarto Però non riscattate Così Non me le fa inserire Se però Io le lascio Incomplete Cioè quindi Non faccio Il livello 3 Ma lascio Il livello 1 E il livello 2 Fatti E non riscattati Cioè Non lo attivo Proprio Il livello 3 Ok Lui Lui mi Lui mi dà L'opportunità Di inserire Giocatori No No Luke Adesso però Il mio dubbio è Chiedo anche a voi Adesso vi ho detto Di completare Non riscattare Il livello Il livello 2 Se io non riscatto Adesso il livello 2 Se io lo finisco qua E non lo riscatto Lui mi rimane così Livello 1 Invece no In teoria Io dovrei Riscattarlo Questo livello 2 Partire con il livello 3 E non cominciare Proprio più niente Buonasera Francesco Kimmish E Zidane Base Sawa che faccio Che significa Che fai Devi togliere Sawa e Zidane Ho fatto Rodrigo 99 Quando mi consiglio di fare Metterlo nel livello board Devo aspettare No non ci sta Metterlo nel livello board Ottimo a sapersi Cavolo peccato Non saperlo prima Che ora è tardi Per poterlo applicare Due birthday magic Allora io Volevo aspettare In realtà Proprio Stasera Perché ovviamente Scadevano stasera Queste evoluzioni Però domani Abbiamo queste qua Con ricetta segreta Che scadono Costano 200k Per ciascuno È vero Però Secondo me Stasera esce Un'altra Un'altra evo 99 di tiro Dovrebbe uscire di nuovo Un'altra evo 99 Vediamo Vediamo come si comporta Io qua Con evo di 99 di tiro Ci posso mettere Questo Ferran Torres Che ovviamente Non c'ha assolutamente senso Ci avrei potuto fare La combo con Rodrigo Però Non Non c'avevo assolutamente Voglia di farla Su Rodrigo E Zaruri Che era una vecchia evoluzione Ci sto facendo magia Anniversario 1 e 2 Ma non perché Le sto facendo Perché le devo giocare Ma per crearmi Dei test Per fare dei test Non mi serviranno Assolutamente a nulla Lato gameplay Per ora Quello che però Mi voglio Mi voglio Mi voglio questionare Diciamo La domanda che io mi faccio È Io magari faccio Il livello 1 e il livello 2 Non faccio il livello 3 E non lo riscatto Quindi non prendo Né il bonus del playstyle Né il bonus delle stats Né il bonus Del Del piede Delle mosse abilità In questo caso Ok Quindi Lo lascio 4-4 Non mi diventa 5-4 Mi diventerebbe Così 4-4 Con queste stats qui Sempre 90 di overall Quindi alto Con queste stats qua È molto mediocre Secondo me Nel momento in cui Io non riscatto Cioè non vado avanti Per metterlo In una seconda evoluzione Ha davvero senso Poi Alla fine Cioè magari Io ce l'ho così Non riscattandolo Non posso più Continuare l'evoluzione Perché mi scade Cioè la differenza Di bonus Che io ottengo Non riscattando Questo Per metterlo In un'altra Vale la pena Tale da Non completarla Così Non è sicuro Al 100% Maniele Ha segnato Siccome nel picco Ho trovato Petit e Gerard Il centrompo Sawa e Zidane E Kimmish Non saprei chi poter Prendi Gerard E togli Sawa Non spammare Non spammare Ti leggo Bisogna farlo Con l'Evo Con un secondo livello Molto buono Tipo quella 99 di tiro È Esatto Ovviamente Regà È Esatto Tipo questa qua 99 di tiro Che vedi Il 99 di tiro Te lo dà Te lo dà Al secondo step Ovviamente Però quella Con il 99 di tiro Tra virgolette C'ha quasi C'ha quasi Praticamente Poco senso Carmelo Perché nel momento In cui tu gli metti 99 a una stats Praticamente non verrà Mai più La finisci Ma ci sei valida Giocabile In una vita passata Che abbia picchiato il cane Secondo me non ha senso La cosa buona dell'Evo Interrotta Era che tu avevi Una card più scarsa Che poi riscattavi dopo E ti prendeva Gli app anche del livello dopo Questo non è minimamente comparabile Secondo me Spero No io sono d'accordo con te Ed era esattamente Il mio dubbio Era esattamente Il mio dubbio Sotto questo punto di vista Cioè Ha davvero senso Andare a interrompere Un secondo livello Non riscattando E ne completando Il terzo E quindi non prendere Nessun tipo di bonus Dell'ultimo livello Lasciandolo al secondo Per metterlo In una seconda O terza Evo Ho un disperato Ho bisogno di un CC Ho speso tutti i miei crediti Per Zanbrot E lo sto evolvendo E ho cominciato Da una settimana C'è qualche DC SB si valido Al momento DC DC Ho Van Dijk Saliba Evo Bird Al momento Ma vanno benissimo Quelli che hai I Kronos Con evoluzioni di C Ci stanno Sì Però Non è Dipende da quello che hai C'è Varane Che non è male Ci sono le Le soluzioni Ma vanno Secondo me va bene Giocarli così Sì Kevin Buonasera Ziki Eh non è esattamente Non è assolutamente Come prima Deve essere una cosa Tipo quelle degli Argento Che anche se arrivi A livello 2-3 Cioè il penultimo Ti aumenta comunque di molto Esatto Sì Esattamente E il problema è che là Tu non lo puoi sapere Allora Quando tu non lo puoi sapere Una roba del genere Tipo questo Vedi come dici giustamente tu Prendi più 9 di overall Capi E qua Ti perdi Ti perdi Le 4 mosse abilitati Perdi comunque Un bel po' di stats Però C'hai la possibilità Dell'inserirlo Un'altra volta Grazie alle stats E non avere Il doppio playstyle Eh le so le campane Se aggiornano Già l'Icon Non lo so Fabio non ho controllato Dipende Dalle evo che escono Cioè con queste di adesso No perché danno Un boost basso Però magari se in futuro Escono evo che danno Un bel boost Ci può stare Dare un primo app Con l'evo interrotta E poi fare l'altra Non so se mi spieghi No sono d'accordo con te Però il principio È esattamente quello Questo principio però Secondo me Quando è che è molto efficace Quando come In questo caso Come ci sono Come ho io l'account Ok Considerando che avevo Anche queste due Attive Fino a mezz'ora fa Eh Hai Tutta la scelta Della season Di evoluzioni Davanti a te E in quel momento Ti devi mettere là Manualmente Perché lo devi fare manualmente Cioè Vai sul giocatore Che ne so Arrivi qua Al secondo step Che può essere anche Il primo In realtà Ti prendi un mini boost Qui e poi lo metti In una seconda Ti prendi un secondo Mini boost Del primo livello Cioè lo fai tipo Su tre evoluzioni Diverse E ti prendi In tre slot Evoluzioni Tre livelli Uno Per dire E poi Alla quarta Evo Ti prendi tutta L'evoluzione totale No ma zino Perché Non ci sono stato Ieri Quando ho staccato La live Sono sceso Non lo so Kingstone Gif Mi sono fatto Vero a portato L'80 Nonostante Sono già bene In difesa Avendo io Avendo il rio Toti e Konate Però la verità Mi sono preso anche Ramos Che è già il blocco plus Perché sono un fan E aspetto Se esce un Evo Conveniente Per averci postare Ciao Faru Andata Molto bene Francesco Grazie Sì Piscio da seduto Io probabilmente Lo farò Però dato che dura 20 giorni Questa Evo Non mi metto fretta Una domanda Scartare una Evo Completata Una Evo in corsa Può buggare il negozio È vero Ma se invece lo butto In un SBC No è la stessa Quale uguale È lo stesso bug Mettiamo che tutte queste Evo Sono a pagamento Tu pagheresti per avere Dei mini boost Dipende Dipende Se Tre mini boost Mi permettono Di avere L'ultimo Che è maggiore Del Boost totale Boost totale Boost totale Che sarebbero singoli Cioè io faccio Rodrigo Faccio tre livelli E la card mi diventa Così Se io pago tre Evo Per far diventare O anche Grave Quello che è Per far diventare Una via di mezzo Nelle prime tre Un giocatore Così Con magari Le stesse stazze Così Però che però Rientra in una quarta Che me lo fa tipo 99 di velocità 95 di tiro 90 di passaggio 95 di dribbling E 5-5 Allora si Ha senso La Dove sta Il punto interrogativo È che Per fare un ragionamento Del genere Bisogna Aspettare Che ci siano Tante Evo Disponibili Bisogna Aspettare Che ci siano Tanti Un Determinato Giocatore Che rientra In tante evoluzioni E avevo fatto La Evo di Varane Dove diventava 90 Però senza riscattare L'ultima parte Quindi per adesso È ancora 88 Se provo Provo a metterla In quella 88 Non va perché Mi dice che è ancora In corso Ma in realtà È scaluta Secondo me Come va Esattamente Quello che stiamo Dicendo adesso Alberto Perché Tu sei arrivato All'ultimo livello Cioè al livello 3 O livello 2 Diciamo Vedi L'ultimo slot Ok Per farle Interrotte Ok Bisogna In teorie Sempre Non No patch Su fat Lasciarle A livello 1 O livello 2 E mai All'ultimo step Con i tozza Alle porte Non ho proprio voglia Di fare queste cose Più alla lunga Eh lo so Lo so E Io Voglio Voglio sempre provare A darvi un Un input Del genere Anche dopo 98 Leggermente Più forte Del 97 Ma alcune Sazze Sono molto meglio Con la sola differenza Che al 98 Aveva un Evo Fatta solo col primo livello Sendo Rodrigo La nuova Evo Gratis Voco fatta Pato Ronaldo If Buonasera Frank Castle Buonasera Paperino Esatto Serve anche per evitare Playstyle Plus Esattamente Eh sì Gambe Buggato Quello della Premier League Devi giocare quelli con i giocatori Tutti horrorari Della Premier Posso riscattato Ormai al terzo Sì A questo punto Sì Alberto Digno base Dovrebbe costare meno Se sarà lui Random Buonasera capitano Allora Detto Detto ciò Io vediamo se C'ho un attimo Delle cose da fare Che c'ho sette doppioni Non mi ricordo Se i 1083 Li ho fatti O se ci sono In realtà Non mi ricordo No Le hanno tolti Giusto O si devono Refresh No Le hanno tolti Allora mi devo un attimo Voglio un attimo Vedere con Con Cantona Che stiamo No Francesco Anche con i tozzo Molto vicini Secondo me Le evo saranno utili Soprattutto se come Le ultime con stazzo 99 Ho requisiti minimi Sono d'accordo Ciao Kile Loren No Kuroshiro non c'è Purtroppo No Sto facendo due evo Di magia anniversario Per poi usarli in SBC Perché non sapevo Che evolvere Ci sta No Io non butterei però Le evo In cosa anniversaria L'183 c'è E allora già l'ho Già l'ho fatto Scusami Do sta Non ce l'ho manco Negli scaduri L'183 C'è il picco L'83 L'icon è uscita Alle 18 Vabbè Questa è la stessa Icon Della Della settimana Scorsa Raga Si è refreshata L'icon Della settimana Scorsa Perché la settimana Scorsa fu Quando cambiò L'orario Se non mi sbaglio Vabbè Fatemi un attimo Mettere Rapidamente C'ho Sette doppioni E non ricordo Mi sono fatto la foto Allora 87 Poi degli 85 Secondo me Se li butto In questa rosa 86 Va bene Ciao Fabione Buonasera Allora Vediamo se Nei più recenti Me li conta Questo va qua Obel Bastoni Sheridan Sheridan Ci metto pure questo Che serve Diff Gabriel James Martinez Allora Gabriel Martinez Bastoni Faccio prima A fare così Diorente No Della Evo Non ne abbiamo parlato Ancora 88 Nel senso che Ci sono talmente Tanti giocatori Che si possono inserire All'interno Di questa SBC Che C'è di quella Evo Che Quello che vi serve A voi La cosa Cioè Scegliete quello Che vi serve A voi 1 2 3 4 5 6 Me ne manca 1 Chi è che non ho messo A James James Sì ragazzi Stiamo andando su vista La scuola di Drogba E Lampard Eh rega Che culo Che c'avete Max pure ieri sera Ha sculato un bel po' Ha trovato Drogba E qualcun altro pure Allora Rosa 86 Qui Vediamo che possiamo fare Che le 86 Io pure ce ne ho Ah no ce le ho Rosso Ce lo mettiamo E vediamo qua Con Alexander Arnold E Kanté Come stiamo messi Siamo 85 87 Ok Se ci metto Un 88 Siamo sempre 85 Allora non vale la pena Preferisco metterci Un 87 E qua E un 87 E qua Non ci siamo Se ci metto Un altro 87 E qua Ci siamo Perfetto Quali esbi Si hanno leccato Leccato No per il momento Nessuna Buonasera Fitti Rosicci Si può buttare Per me lo potete Tranquillamente buttare Raga Senza Senza problemi Allora Questa qua si può mettere No i fratelli Galton Ok Questa la eliminiamo Quello di cui volevo parlare pure Adesso Prima della Delle 19 E riguardo Questa foto qua Allora Abbiamo Dei missing content Ok Ci abbiamo Gente che non è uscita Ovvero Lineker E Sien Che in teoria è stato confermato Come SBC E secondo me può essere Molto interessante Desai Che è anche lui Secondo me Molto valido I due kin E Nakata E la versione scarsa Di Di Vidic E chissà che 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 fine Che fine ha fatto Non si può fare Cippi L'abbiamo parlato Mo fino a mo Ti mancano solo due SBC 88 per cantona Sì Paperino Certo E poi abbiamo Secondo Il nostro amico Sempre qua Che spero che Veramente è C'è Bombone Brasile Bombone Brasile SBC E Mo qua Regà Io boh Io boh Vabbè Andre E Più scarso Della versione Quella della settimana Scorsa Avendo provato Quella della settimana Scorsa Stiamo là Ho finito gli obiettivi Di Colom One E Come ti sembra C'è la max Sul suo account Poi ce lo proviamo Magari stasera Allungano il brodo E fanno team 3 No no Non credo Anche se uscisse Digno Se avrebbe davvero senso No Oggi pomeriggio Vi ho mandato Un vocale A riguardo Secondo me Ce l'hai anche ascoltato We Warrior Sì Gromano Punta Scamato Vialli Di quello successo A Giù Non ne avete parlato Eh ma che bisogna Di paperi Eh purtroppo 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 Regà Che dobbiamo fa' Più siamo Più si è Come si dice Più si è Puliti E più Rischiamo Più fate Più si è Bucchinari In questo mondo Più ve la scampate Sempre Purtroppo E hanno azzerato I crediti Però ovviamente Non ha fatto nulla Non vale la pena Comprare la versione Più alta Ho provato Questa e mi è piaciuta Se ti è piaciuta Sì ha maggior ragione Ti vale la pena Comprare la versione Più alta Che forte Allora Ma tra i due Qual è il pacchetto Che vale la pena Di più prendere 15 attaccanti O 15 centrocampisti Settimana scorsa Ma veramente Datore Ma veramente Sì ma là è diversa Count No non è stato aggerato Non lo so Dalla EA Settimana scorsa Aveva più senza Aprire il centro Il centrocampista Perché c'erano Cialton E Gino là Mo con gli attaccanti Forse ha più Eh però c'è Kakà Eh però c'è Gerzigno C'è Puskas Che non utilizzerei mai Secondo voi Puntare a prendere Il centrocampista Per Kakà O puntare a prendere L'attaccante Per Drogba Eh sì Puleon Boh Non lo so Fammi vedere Se io sul Playstation Stars C'ho qualcosa Sicuramente Sono giro attaccanti Diciamo 1500 punti Quanto sono 1500 punti Sono 5 euro 500 FC points Sono 1300 Il problema di quel Kakà È lo stesso di Socrates Kakà nuovo C'ha I ruoli secondari Max Trovato Vidić Può essere migliore Di Konade & Company Sì Ho trovato contro Oggi mi ha segnato In tutti i modi C'è possibilità che Scarnaldo Sì Nel dubbio apre entrambi Esculerai Allora apriamoci questo Da 500 per ora Dai Let's go Tanto Kakà Quando lo trovo Le Bruin Me l'accollo Incredibilmente È un bel 91 Eh no no Max C'ha Un sacco di ruoli secondari C'ha tipo pure ATT AD Eh ci sta Ci sta Lo Sitch McCallister E De Bruin Già è uscita Sick Black Vabbè 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 dai Still Icon Me l'accollo Vabbè Niente di particolare Però me l'accollo Dai Drogbino Ce lo prendiamo In prestito E a me Andate 4-5-1 Con i due CAC Allora Un 88 E doppio 84 Vabbè Tanto manca Un minuto alle 19 Fatemi chiudere un attimo La porta bene Che c'è Che c'è Che c'è corrente Un attimo solo Cosa male male Andre Weimau Non sono in mutande Non sono in mutande Non so se vi è un pantaloncino da calcio Non sono in mutande Aspetto le 19 Se c'è qualcosa E ti invito Va bene Buscas è sottovalutato È da provare Sì Mi sono sbloccato Le so che le siamo fatte vivere Senza Ti avevo detto Vince Allora signori Le campane suonano Con 30 secondi di anticipo Perché stiamo aspettando Non ho ancora provato Simone Stiamo aspettando L'orario più bello Delle nostre giornate Anche oggi Di sabato Sera È sabato Sabato 6 aprile Stiamo aspettando L'orario più bello Delle nostre giornate L'orario per il quale Noi ci svegliamo E per il quale Andiamo a dormire Tutti i giorni Signori Anche oggi Diciamolo insieme Sono Le 19 Sono le 19 E vediamo Mamma ye Cosa Ci ha Droppato Buonasera Dob Signori Allora Giugador Vediamo se è uscito qualcosa di interesting Poropopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop Barger, Gerzigno, Yashin, Fernando Torres, Roberto Carlos, Magherede Aghi, Ham, Beckham Bello! E anche un bel 7,84, ripetibile tre volte Bello questo ASN, fammelo vedere 4,4, alto, alto, cdc, cc 94 di intercettazioni, 90 di lettura difensiva 80 di dribbling e 80 di agilità 99 di ruota alla distanza, 99 di ruota al volo 96 di passaggio corto, 92 di lungo Joghe e Procione, mmm, calibrato e pinghead Batteria e cassaforte Powershot, oddio Vediamo le evoluzioni Allora, attaccante atomico se non mi sbaglio, eccolo qua Oddio, ma basta con questi argenti di merda Crea il bomber per la tua squadra, scegli un oggetto da trasformare in ATT Con tiro 99, un potenziamento delle mossi abilità e tre stili di gioco Totale massimo 77, ah no aspetta, velocità massimo 84, tiro minimo 65, dribbling massimo 78, deve fare l'ATT, zero playstyle plus Petagna Bene, io farò Petagna Oh, Barcolà se può mettere Oh, se può mettere Barcolà a base, di nuovo Eh, Actung, signori Barcoloni Fammi vedere un attimo cosa da Allora, diventa più Aspetta Aspetta, aspetta, aspetta Da più 14 di overall Più 10 di velocità Più Diventa 99 di tiro, praticamente Più 9 di passaggio Più 11 di dribbling Più 7 di difesa E più 10 di fisico Uscita la mini release, ma ci andiamo a vedere anche quella Fammi vedere, vabbè, Barcolà non me lo posso vedere perché ovviamente io già ce l'ho evoluto E quindi mi dice che già ce l'ho evoluto Echitichè Echitichè Con la radioattività 99 di tiro 4-3 Stili di gioco Trivela e Calamita Oddio, raga, 100k Mi sembra abbastanza una puzza sta epo, eh Balotelli base Ci stanno gli argentoni Che digno è crollato Perché c'è la possibilità che esca La SBC 100k pure per sta cosa Fammi vedere se ci sta qualcosa di interessante qua, ma Mi sembra veramente Mi sembra veramente Insomma Come sei tu Oh, Alarcon No, sumo di gioco massimo 0 Niente Preferivo quella di ieri Ma, raga, abbastanza una puzza sta epo, eh Ti devo dire la verità Poi sempre qua, 20 giorni Fammi vedere Barcola4-3 Fammi vedere un attimo su future.gg Se c'è qualcosa di interessante che io non ho nel club Tunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturunturuntur Au aspetta un attimo Aspetta un attimo Aspetta un attimo Eh zaruri 5.5 Io già ho quell'altro evoluto Mannaggia il pataturco Fammi mettere qua Custom field Miscellanea 4.5 4.5 Ehm Apply Così ci mettiamo solo i 4.5 Pialo Berbado Berbado è più forte Pesa che mostro E poi ci andiamo a vedere un attimo Fammi vedere un attimo questa evo Aspetta aspetta Tocco i cambi Allora questo bright white In realtà mi ispira Ti devo dire la verità Non è malissimo C'è pure sto barrow Che alla fine in serie ha 4.4 94 di velocità 99 di tiro Ovviamente 79 di forza 65 80 di freddezza Quanto c'ha bright white di freddezza? 87 Ma sai che non è malissimo sto bright white? C'è sto QA me 4.4 80 di freddezza pure lui Però per una serie A È sfizioso Non c'è più Eh ma qualcuno però Tipo io se non mi sbaglio Ce l'ho un QA me Ce l'ho un Un barrow Ah no ce l'ho di questa squadra qua Ce l'ho del Altaun E allora togliamolo di mezzo Sto QA me Grazie per avermelo detto C'è no no QA me Come si chiama Quell'altro Barrow Router Eh ma vediamo Vediamo Ce li vediamo tutti quanti Ragazzi io sto vedendo Solo i 4.5 e i 4.4 Sotto 4.5 e 4.4 Non me li dite Perché non me li guardo Ragazzi Non servono avere Non serve avere giocatori Camero Eh vado Mi sa che Mi sa che si fa Eh Oh sto Camero C'ha la combo C'ha C'ha la combo Con Unleashing Potential Quanto è alto Sto Camero 1.72 Stai bene Dove stai Sesignolo Vediamolo un attimo Con Unleashing Potential Eh oddio Questo Questo sesignolo Potrebbe Eh però 79 di freddezza Regà Madonna mia Ma perché Baciuai Gioca In Turchia Giuse Oh my god Regà Ma sto sesigno 79 di freddezza Che palle Dolberg Non mi interessa Balodelli Nemmeno Undav Baena Non ci interessa Gimenez Origi del Milan Che però Non ci sta più Perché Origi è andato Via Cerci Falcao Wado 77 di passaggio Wangi Chan Wangi Chan Di Premier League Questo Wangi Chan È sempre sbroccato Questo Wangi Chan È sempre rotto Che può fare Sia AS Che ATT 99 di tiro Madonna mia Questi 99 di tiro No Vabbè Questo lasciamolo stare Perché comunque Grazie per la sub Grazie per la sub Maronale Grazie mille Per il settimo Mese Bentornato Il punto Scativo Gruppi Bello De casa Barcolà Purtroppo Poca roba Perché diventa 4-3 Grazie mille Grazie mille Ale Bello mio Come stai Alcaraz Della Uai Ci arriviamo Ci arriviamo Anzi Fammi fare una roba Fammi fare Allora Campionato Bundes No vabbè Icon è inutile Non ci entrano mai La Liga Ligan Premier SRA Per ora Allora Ci abbiamo E ci mettiamo Anche velocità Custom filter Velocità Almeno 86 Non spammare Aldo Non spammare Velocità Minimo 86 Minimo 86 Di velocità Raga Che secondo me È comunque Abbastanza decente Sotto Mi sembra Brun Larsen Ma chi è questo? Chi è questo Brun Larsen 78 Di freddezza Io boh Raga Boh Raga Madonna Saranno 20 giorni Orribili Raga Cara Momo Francese 5-4 Eh 83 83 Di reattività Che però Già è meglio Sì Bright White Già visto Baccio Hai no Ragazzi Perché è della Turchia Non lo farei Zizubuma Verdi Ragazzi Verdi Ficcatevelo Nel culo Ce la faccio Più Verdi Gudmundson E questo pure Bello Rotto In game Però 79 Di reattività Raga 79 Di reattività 20 giorni Dai Toz Mi sembra Veramente Stupido Ma proprio Tanto Stupido Caramo Mi sembra Interessante Però Che cosa Avevamo detto Che c'aveva L'83 Di reactions 78 Di effetto Sempre la stessa Cosa Luke Sì Sono Radioattivi Ma la radioattività Non significa Che devono Essere Cioè Devono Comunque Essere Ibridati Cioè Fanno Loro Tre D'intesa Ma non Generano Tripla Intesa Gli altri Quindi Indipendentemente Siamo Sembra Al 6 Aprile Luke Ogni volta Che esce Sta cazzo Di radioattività Dobbiamo Ripeterla Sta roba Gio Pedro Insomma Mediocricissimo Questo Gudmundson Ragazzi Gudmundson Abbiamo visto Mo C'ha 79 Di Reattività Raga 79 Io Allora Ve lo tengo Però L'appunto Ce lo faccio Perché 79 Di Reattività Va Considerato C'è questo Matistel Che pure Sempre Molto Interessante 5 4 Da inizio Anno 70 Sempre Lo stesso Problema 70 Di Reattività E 80 Di Freddezza Se Argenti Non vanno Bene Che So Scarsi Raga So Scarsi Ma se Tipo Io Faccio Così Guarda Custom Filter Invece Di Pace Ci metto Dove Sta Attributi Dove Sta Composure Eccola Qua Composure Ci metto Almeno 85 C'è Sta Qualcuno Sopra L'85 Oh Questi Sono Quelli Che C'hanno Sopra L'85 Di Composure Pure L'area Attività Devo Mettere Con Vampersi A 60 K Stai Non Ha Senso Mamma mia Completamente D'accordo Con Te Completamente D'accordo Con Te Fammi Vede Sto Sandro Questo Quanto È Alto Questo Mettere 75 76 Vedete Che C'hanno Sempre Tutti I Problemi Vedete Che C'hanno Tutti Quanti Qualcosa Di Sbagliato Perché Gli Manca Sempre La Composure Bright White Guamese Signa Garamo Gudmundson Ma Vabbè Wang Ghi Can Sì Pure Non è Male In realtà Sono Sono D'accordo Che Wang Ghi Can Non è Male Il Problema È che C'è Il Coreano Comunque Però Da tenere In Considerazione Vabbè Andiamoci a Vedere Facciamo dopo YouTube Andiamo a Vedere Andiamo a Vedere Un attimo La Minirelease Il 784 Andiamo a Fare Guarda Quelli Che Diventano 87 Eh sì Ma Te lo Fa Automaticamente Nico Sì 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 Ho visto Ho visto Mi voglio un attimo Vedere La Minirelease Aspetta No aspetta Roger Abbi pazienza Mandameli in privato Alle 19 Non mi chiedete Consigli squad Abbiate pazienza Boys Per favore Roger Almeno voi Che siete abbonati Da 256 Anni Allora Chi sono usciti Chi è uscito Chi è uscito Chi è uscito Nella minirelease Dei Zai Grazie Per la Dcc Grazie Per la Sab Bello e buono 99 di potenza Tiro 91 Titolo dalla distanza Grazie mille Fede per il 27esimo mese Maron Bello di casa Bello di casa Come stai fedone Bello mio Puta scativo Gruppi Se devi rientrare Nei gruppi sub Eh bello Sto Dese Bello bello Sto Dese 94 lettura 95 aggressività 94 forza 93 intercetti Normale alto 3-4 Bella cartina Sto bro Lineker Versione High school musical Qua 4-5 Alto basso Gran finalizzatore 87 agita 83 82 forza Tutti Play style Del dribbling Praticamente Tranne il rapido Razzetto R1 Bah Mi sembra Card abbastanza Average Grazie Mi dice Baby Grazie Per la faba Per la faba Grazie Mille Jack Grazie Mille per il ventesimo mese No Padilac Non si Non si Non si può evolvere Purtroppo Purtroppo No Questo ho trovato Al pacchetto Icona Dese Lì Hai trovato Max Dese Lì Nuovo Hai trovato Dese Nuovo O Dese A base Vediamo Le hero Invece Alineger Ci proviamo pure Quello Nel caso Non ti preoccupare Lucca Non ti preoccupare Stiamo organizzando Coler non è male Per chi lo chiedeva in chat Ah c'è Kin Dammi vedere Sto Kin Come l'hanno fatto 4-5 Vabbè Questo Stile Benny Edder Stile di Natale R1 Calamita Ma alla fine Non è male Sto Sto Kin Da provare Sicuramente Francesco Marquez Kiewel Dempsey Crouch Va bene Ah scambiabile Vero è vero L'hai fatto volare Questa è la mini release Andiamoci a fare Sto 784 Allora Che c'avevo come doppioni Qui 784 Cosa chiede Una rosa Fernandez Müller E Sané Cosa chiede Un 784 784 Una rosa 83 if Oddio Allora Sarà uno Scam incredibile Probabilmente Ah Due Ne hai trovati Cioè Tu hai trovato Henry Nel pacchetto E poi E poi Linegar A fianco Eh non male Non male Non male Non male Non male Non male È il pacchetto Quello Che c'ha l'icon Garantita scambiabile Vediamo un posto Eh ma io c'ho Quell'88 Là Do cazzo Metto Poi chi erano I due 84 Müller E Sané Una rosa 83 Poi con Leaf Ci devo mettere Metto Sto Roger Fernandez Poi una rosa 83 Cioè in realtà Potrei metterci Pure gli scarsoni Mi pare 2000 O 3000 Diallo L'hai vista Ma regà Ma Chi è questa Malato Diallo Cronus Ma te voglio bene Vediamo questi qua Odamendi 2005 Adesso Mark Se sembra meglio Di SN Non lo so Ma vediamo un momento Ma vediamo Non so se Mark Se lo sta sbloccando In prestito Oppure sta facendo Tutto quanto La cosa Ma ce lo andiamo A testare SN Se gentilmente Padillac Mi cambi il titolo Della live Avevo Più 780 Test SN Più Quello che è uscito Stasera Va bene Max Grazie mille Allora Vediamo un attimo Vediamo un attimo Come la situa Mi vado un attimo A togliere Quel Bruno Fernandez Quel Bruno Fernandez Qua All'interno Di questa sfida Qui Così ci possiamo aprire Pure i 784 Vediamo quanto Quanta supposta Prendiamo Due Tre Quattro Non so se so io Che ho la zella Ma un walkout Su 3784 Mi sembra eccessivo Troppo poco O troppo tanto Buonasera caso Buonasera Buonasera a tutti Signori Allora Ci metto Sto Courtois Qui E poi ci metto Carcia Qui Forse siamo pure alti Vediamo un attimo Qua Ok Nuova e pochi consigli Al momento Nessuno di rilevante Grazie mille Stefan Per il secondo mese Bentornato E punto esclamativo Allora Avete fatto partire pure L'hypedrain Grazie mille Signor Stefan Punto esclamativo Gruppi Se deve rientrare Nei gruppi sub Mi raccomando Allora Apriamoci questo 784 Vediamo Vediamo che droppettino C'ha il mio 784 Inghilterra ATT Aston Villa Bello Chi è? Fantastico 1 2 3 84 4 5 684 684 83 83 86 Non vale mai la pena Mamma mia Mamma mia Mamma mia Madre di Dios Madre 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 di Dios E c'è poi Quell'85 Abbiamo detto Ma io sto cantonare Che mi manca Per far ste Quattro sfide Due sfide Perché bronzo Argento C'è lo Che mi mancava Una 87 7 E 1 89 Vabbè dai Il chill Mi sembrava buono Mike Vabbè faccio Sto sette Una volta così Poi ho qualche foda Per l'icona Per il meme Invece Ci vorrebbe di nuovo L'85 E più Sono assolutamente D'accordo Vabbè Che devo fare Non ci vado a rimettere Un'altra volta Qua dentro Cazzo me frega Ho appena trovato Digno scambiabile Eccoci qua Ma io che faccio C'è metto GIF 86 Qua dentro Ci mancano solo 288 per cantonare Ti avevo letto prima Sì 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 Che faccio Ci metto L'IF 87 Qua dentro L'IF 85 Per trovare Non vale mai la pena Non vale mai la pena Vedete Questa card è qua Per esempio È molto simile A queste evo Che sono uscite stasera Sì Andrew Sentiamoci sempre in privato Soprattutto non alle 19 Abbi pazienza Andrei Queste card Queste card Evoluzioni Che sono uscite stasera Dell'argentone Sono molto simili A queste A questo Azzono Doi Questo Azzono Doi Le stats Sono tutte buone Ok Poi vai a vedere 80 di reattività E 80 di freddezza Lo vai a provare in game Ed è una ciofega Quello che ti serve di più È Abbi pazienza Io non ti so consigliare Se Puato può essere migliore Di toco e cambi Punto punto gg Marco Quel cacà ieri L'ho provato Non ricordo No non l'ho provato cacà Allora Ma aspettiamo un momento Ah ma io non ho visto Cosa chiede SN Non ho visto Cosa chiede SN Fammi vedere un attimo Perché secondo me Sto SN Perché Perché non si è fatto Ciò a meni 11 sfide Allora 83 85 W86 W87 188 W89 Quanto stiamo Sulla milionata Sulla milionata Eh 870 Ma sai che ti dico Che manco male Il prezzo Rispetto a quello Toti Barone Gli hanno messo Un più uno Di velocità Un più Dodici di tiro Un più Quattro di passaggio Un più due Di dribbling Un più due Di difesa Un più uno Di fisico Beh Alla fine L'upgrade Non è Non è Non è Sbagliato Tralasciando il tiro Che non ce ne frega Assolutamente niente È stato È stato boostato Soprattutto nel passaggio Ah ma io c'avevo I vostri parti Mi sono dimenticato No Alf Bart Ma io te voglio bene Ma come fate a Come fate a poter giocare Con i 3-3 Il 6 aprile Regà Non guardate solo le stats Che ha trovato tube Ah E che cos'era sto pacchetto Triple 85 Più E non l'ho visto Alcaraz Però raga Se ti fate Juve Ha senso I playstyle sono me Sono d'accordo Ma andiamo a testare Max ha sbloccato Essiena Entriamo subito 3-85 Non male Vidici nel 7-84 Vale la pena Levar uno tra Blanco a Kanji Potenzialmente È più forte Di a Kanji Eh si tube Buonasera Boss appena Faccio due pacchi E farmo icon Me la devi aprire Scolare Eh vabbè Cassani ma lei Va bene Certo Comunque Non si preoccupi Che faccio con questi Padillac Socrates Drogba Henry Eh non male Scarta Recupero Sai che sono solo 5 Noi recuperi al mese Pum 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 Però cazzo se mi dici Oh chi Cazzo se mi dici Che hai trovato Dal 7-84 Vidic Trax Sono contento Donna vera Vada Cassanegno Io la prendo in giro Roberto Carlos Hai trovato Mazzì Gli giocatori fuori ruolo Non sono buoni A me Io li uso lo stesso Andrei Eh 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 Scarta Cazzo Molto bene Molto bene Molto bene Cazzo però veramente Se mi dici 7-84 Vidic Godo eh Parkdown 3-85 Eh questo Questi non li scarta Padillac Va bene Cassanegno Non si preoccupi Grazie mille Padillac Allora Fatemi vedere Un attimo Che cosa Me lo basta Vi arrivato a fare 7-84 Dai Voglio trovare Voglio fare come Oh che è successo Voglio fare come Ai Toti Il Toti è nel prossimo Pack No Park Non l'ho ancora provato Lo so Perché ieri L'ho trovato L'ho messo in campo Ma non ho giocato Oggi non ho fatto Una partita Da quando ho staccato La live A oggi non ho fatto Neanche una partita Ancora Ciao Danco 7-85 Mi ha dato gain 3-5 Ho trovato di nuovo Come Lampard Doppio Park E Kino 91 Oggi vediamo come Yes Un escadito Drogba Andrea Abbiamo provato Ieri sera Assieme a Vialli E Cantona Vidic dal Pic 81 Quest'anno Scolato Tranne che Ai Toti E dal Pic Di Messi Cazzo Sta succedendo Che è L'apparizione Della Madonna Kino Sì Che dal Secondo 7-85 Si vola Per la Full Irish Uè Luca Buonasera Signore Mi sa che Non mi fa Loggare Sul Il Gioco Padela Vai a vedere Il commento Su youtube Di Lawrence Che per i Sottotitoli In inglese Il professore Di sto Cazzo Ci dice Bel video Ma un consiglio Per le traduzioni Inglesi In inglese Il doppio passo È step over Non double step E la porta Calcistica Si dice Goal Anche net Door È la porta Di casa Ma è incredibile Io non ce la faccio più Io non ce la faccio più Io non ce la faccio Proprio più Io non ne posso Proprio più Ragazzi Io non ne posso Proprio più Ragazzi Sta gente Mamma mia Aiu Se dovete stare Su internet Se dovete stare Su internet Per fare i professori Aiu Non ci state Siete dei Cacacazzo Con Oredon Non al suo posto Mamma mia Mamma Cioè Immagina Non capire Che sono Dei sottotitoli Automatici Fatela Cambia la pazienza Di Guardare Di ricontrollare Non mi dire niente Perché io non ce la faccio A vedere questi commenti Per cortesia Spendiamoci Cinque minuti in più Perché io non ce la faccio più A vedere questi commenti Così Non ce la faccio Proprio più Eh lo so Danco Lo so E certo che sono automatici Sì li controlliamo Però Fino a un certo punto Cioè Mai va a capazzare Che c'è sta Ucazzelo Professora Le procedere S'accentrano Per far spazio A Drogba Valuta Potenzialmente Sì E chi Chiedi 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 Padelac Se non sai Chiedi Allora Non ti sto dando una colpa Ci mancherebbe alto È colpa di questi qua Che non sanno vivere Da tua assenza Mi sono sentito Uno streamer Sconsigliato Drogba Perché per sentito Dire Aveva sentito Che era scarso Eh Geppettino Ci dica Il nome Di questo streamer E Ci dica Il nome Di questo streamer Che non ha provato E così Faremo Diremo alla gente Di non andare a seguire Questa persona Molto bene Sané Gabriele E Martinez Io ormai devo fare così Ma io devo essere Sfacciato Con sta gente Di merda Me ne frega Proprio un cazzo Mi sono proprio rotto Le palle Allora Sané Gabriele E Martinez Sané Gabriele E Martinez Dove stanno Sané Gabriele E Martinez Eccolo qua Sané Gabriele E Martinez Sono proprio rotto I coglioni Se uno si sbatte 24 su 24 E poi arriva Ah 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 io ho sentito Che quello è scarso No no ragazzi Non lo fate Ma che dovete fare Vaffanculo 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 Ehm Laco Deimos E ci mettiamo Bryce Mendez Ok Let's go Siamo ovviamente Altissimi Non necessario Sam sta facendo vacillare Di panchilare Kimmish Fatto che Dovano a fianco Avviera Farebbero Legna Go Eh sì Non è male Come coppia Di cdc Anche se comunque Bisogna vedere Un attimo Sto essendo In game Come rende Voi non ci dovete Manco entrare Nelle chat Di sta gente Geppetti Per quanto Preferite Non Preferite Non Preferite Non entrare Su twitch Ho fatto 11 game Di buone Nell'accanto Il mio amico Ma drogobai È veramente Forte Forte Ne faccio quattro Col drogobai Carica la clip Su tiktok Dicendo che è Lo script Bra Esatto Eh ma io nel 784 Però non sculo Come voi Eh io nel 784 Ci trovo 74 84 1 85 1 86 1 86 Grazie Capitano Eh sono d'accordo D'ora Chi farà Nella nuova evo Nessuno Al momento Allora dai Basta Mi sono rotto il cazzo Andiamo a provare Sien Voglio giocare Let's go Max Sto Entrando Let's go Eh però poi c'è Sta il bro Che trova Vidici C'è il bro Che trova La sculacchiata Allora Abbiamo un bel po' Di player Da testare In questo account No sono sbroccati Ho appena trovato Deiselli Eccoci qua Abbiamo un bel po' Di player Da testeggiare Lo sapete Ciazz Lo so Lo so Geppettino Ma non è una question Di tossicità È una question Di incompetenza La parola giusta È incompetenza Non tossicità Hai trovato solo Rosicchi Molto bene Cassanigno Sono tutti Con 99 di tiro Eh Nick Allora Signori Ci abbiamo Un bel po' Di roba Ci abbiamo Veramente Un bel po' Di roba Qua da Da inserire In squadra Allora Vediamo un attimo A chi possiamo Fare posto Oltre a Sien Ovviamente Abbiamo Lineger Colomani Ci abbia Alonso Però vabbè Park Questo non è Questo è quello Baby O quello forte Quello forte Ci prendiamo pure lui Vediamo se sto Lampard Riusciamo a inserirlo C'è Keywell Che pure ci potrebbe dare Una mano Eh non è detto Capita Boh Allora vediamo un attimo Come li dobbiamo sistemare Ci abbiamo Canto no C'è Colomani Qui Parchetiello Qua Poi abbiamo Lampardiello Ce l'abbiamo qui Qua va messo Essien Lineger Al posto Di Drogba E Manca Keywell Di voi quei Keywell Eh Questo Andrebbe messo Al posto di Canton A per fare Il test completo Sì Facciamo così Allora Tu puoi fare A S E S C O C No Nick Perché non Allora fammi andare A riscattare Sien Perché non Per me non vale la pena Fare qualcuno adesso Poi faccio un video YouTube stasera Dopo che stacco la live James è forte Sì sono d'accordo Allora No Daniele No Magari Vado Vediamo un attimo Se fare Dell'Evo Cioè no dell'Evo Se fare un video review Di tutti quanti Poi secondario Ok Ce l'ho impresso Se non mi sbaglio Capita Di sicuro Vado Max Allora Come era SXCN Benvenito On top of low purpose Donde io testo le carte Allora Come è SXCN Golaso Benvenuti On top of low purpose Dove testo le carte Così non devi farlo tu Intanto lascia un like Un follow Per la review E scrivimi e seguimi Su IG Per chiedermi quello che vuoi E gambe Max l'ha sbloccato Guarda te dico Mica alle 19 e 31 Max l'ha sbloccato Alle 19 e 22 Alle 19 e 22 Lui ha scritto Entra Sentiamo la sculata col pacco Da 3500 Possiamo provare la sculata Col pacco da 3500 Max Edello Se lei me lo Se lei proprio insiste Max Edello Io Io accolgo la sua La sua richiesta Allora Eccolo qui Let's go Signori abbiamo un pacchetto Da 3500 Ma trova Puskas Che fai Non te lo trovi Non te lo provi Signori Contiene un oggetto Aigon O Irogo Lazo 89 più Garanted Oltre a 5085 Di cui 287 Più garantiti Facciamo una bet Facciamo una bet Fai la stessa Quella di ieri Quella la Quella la Che ho Uno tra Giardinio Kakà Vidic Puskas E ci metti pure Desai Io intanto cambio il titolo Della live Allora Ora Pack Da 3500 Più Vidotest SN Si è uscita tutta la famiglia di Rosicchi Eh la mamma Interessante Desai io kakà ci sto Eh kakà sarei molto Molto contento Le Icone e Borde Hanno 3 di intesa Tutte le Icone Hanno 3 di intesa Ma possono uscire anche Quelli del team 1 Sì 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 Icelu NP Ieri ho trovato Qualcuno del team 1 Non mi ricordo Allora signori C'è la bet Attiva Bettate I vostri Organi Dita Falangi Occhi Capelli Rapianti Ok Socrates Ti abbassa l'intesa L'hai messo nel ruolo giusto Perché dipende dagli altri Dagli altri Se sono Se hanno tutti i pallini a sinistra Paco Gabix Tutto sul sì Eh ma Mi scusi signora Cassanegno Tutto sul sì Ha messo tipo Diecimila punti Avrà messo Quanto hai messo? C'è stanno Ventisettemila punti Sul sì Come ruolo secondario Ha solo C a C Paco Ho messo solo questi Perché sennò la betta Era troppo lunga Non me le faccia fare La gerzina Cacavi Ci buscassati Va bene Va bene Va bene Va bene No non ti preoccupare Paco Se questa live Sta prendendo una pietra didattica Sono arrivato io No che pietra didattica Marijan Siamo per shoppare Come dei dannati Cioè Cassanegno Lei ha solo 12.000 punti canale Lei ha capito Che la live Non se le guarda mai Cassanegno Lei si deve guardare Le repliche Per fare punti canale Arriviamo a 200.000 Sul sì E 300.000 Sul no Siamo a 192 297 Maestro Perdo sempre Sfortunato in gioco Fortunato in amore Signor Cassanegno Io la live La guardo sempre Ma faccio cacare Sulle bette Le perdo sempre Ma ci sta Stanno lì per questo Allora signori Mancano Pochi secondi Alla fine Di questa bet Poi ci apriamo Questo pacchetto Da 3500 Dove troveremo 17 icone Hero E 42 No icone hero 42 Hero E 17 icone 89 più E poi andiamo Subito a testare Siena Che già è stato Sbloccato Signori 54 doppioni 53 E un caca In più Signori 1 Signori 2 Signori 3 Max Scudo Let's go Barnes Molto bene Padilla Ah no Escono prima Le if Ok 3 if 2 89 11 doppioni 11 doppioni Solo per Scularti Caca Oh Keen Quello Bono Dai No Non ci credo No 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 Piango Si 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 Rolito Si No Non ci posso Credere Sarema Sto Keen 100k Veramente Wow Sono usciti Keen Pezzotto Park Pezzotto Keywell Pezzotto Francescoli Pezzotto Keen Buono Cocia Pezzotto Berbadov Pezzotto Prince Pezzotto Drogba Dialli Buoni Doppioni Ah Amica Gesculato Dai Bastamo Lo shoppo Anche io Paghi La bet E vabbè Abbiamo avuto Anche questa Vediamo se c'è Troppa qualcuno Da provare Vidic Quello Pezzotto Vediamo se c'è Troppa qualcosa Da poter provare In prestito Keen Pezzotto Udunim Vabbè Le pediglio Vabbè Uno vale l'altro Sicchi Pago il no Ma entro Quando devo completare Le qualifiche Per fare la vole Di questa settimana Entro La scadenza Della VL Zibo Che è martedì Alle 9 del mattino Oh Vidicci goloso E mo ci proviamo pure Vidicci buono Dai Godo Che sto Vidicci Sono molto interessato A provarlo Allora signori Allora signori Allora signori Allora Vialli Mi perdoni Tonali Può andare a fanculo Allora Qualsiasi speciale Ci mettiamo Vidicci in prestito Quello buono E vediamo un attimo Sto Roykin Come lo Robbykin Scusatemi Come lo andiamo a sistemare No review youtube No review youtube No Bisogna Bisogna Spezzettarle un attimo Padilla Allora tipo Si fanno Quelle dei centrocampisti Quelle degli attaccanti Quelle dei difensori Capito Si Si Allora Questo va qua Ok Da provare Mattia Allora Colomonice Può fare la D Può fare l'E D Forse col 4 5 1 Ce la dovrei fare Aspetta Ci diamo feedback su colo Certo Ce l'abbiamo in campo Proprio per provarlo Eccolo qua Allora Tu Vai a fare In culo qua Eccoci qui Perfetto Allora Padilla Stiamo provando Modo lo scrivo Un attimo Su what is up Allora Sto provando Vidic 94 Park 92 Lampard 92 SN SBC Colo Muani Bird Pass Keywell 91 E Lineker 92 Sprecato mettere If Nel 784 Nel 88 Nel 784 Si decisamente si Allora Il buon SN Ovviamente Un'ombretta Eccolo qua Certo Raffo Però sto appena iniziando Ad andare a fare I test Buon vidici pure Chi si mette Un'ombretta Poi abbiamo Questo pa Allora Aspetta vediamo un attimo Come ce dobbiamo giocare Che secondo me Siamo in sovrabbondanza SN Colo Più forte Look Non me Ricordo Spyro Non ricordo Tutte le Combinazioni Il buon park Se gli lascio Base Ma in realtà Io gli metterei Un'ancoretta Ti devo dire la verità Albro Gli metterei Una bella Ancoretta Al mio amico Cicci Baccolo Qua Gli bustiamo Un po' Quella forza E quell'aggressività Al nostro amico Lampard Invece Gli mettiamo Un Motore Dribbling Difesa E fisico Cosa dribbling E difesa Dovrebbe stare Se non mi sbaglio Non si usa mai Però Dribbling E difesa Guardiano Vai Eh capitano Ma noi qua Siamo raccomandati Abbiamo messo Dribbling E difesa A questo bro E poi Al nostro amico Colomuani Snappo Ma lei è serio? Lei è serio Ogni giorno Oppure mi prende Cioè se mi prende in giro Dimmelo Io me lo metto Non 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 faccio più Ma lei mi sta davvero Chiedendo come Cioè Tutti i giorni Lui di Sian CCCDC Questo Colomuani Io gli metterei Un Quanto è alto lui Un metro e ottanta Io a questo Gli metterei Un bel finalizzatore Lo sai Domanda di rito Obbligatoria Vabbè Quindi sei Cioè È meme 70 di passaggio Questo Colomuani È 70 di passaggio Lungo 79 di effetto Bella merda Ti devo dire la verità Procione Proprio Incredibile Alto normale Vabbè Da provare Ragazzi Siamo qua per questo Keywell Invece gli mettiamo Questo è alto Un metro e ottanta Questo gli si mette Un bel cannoniere Tiro dribbling E fischio Eccolo qua Vedi Anche io l'ho sbloccato Colomuani Lo butto Il Ronaldinho Ah E invece Il nostro amichetto Lineger Che secondo me Questo ci farà Tiltare In una maniera Incredibile Gli si mette Secondo me Un bel cacciatore E va a rivederci E vaffanculo Non si sa se esce Dignore No Per lei Mi evolvo Beto Bravo Nei prossimi giorni Fai una guida Per capire come fare Punti esperienza Ma non c'è bisogno Di fare nessuna guida In realtà Capitano Bisogna fare Bisogna giocare Tutti i giorni Le partite giornaliere Le battles Le rivals Le qualifiche Tutto Usare tutti gli obiettivi Punti esperienza Che ci stanno Nel gioco Ottimizzare Se tu giochi E fai tutto Ottieni 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 Punti esperienza Non c'è nessun trucco Allora signori Andiamo a fare questo Goloso test Di tutti questi Bei playeroni L'inegar sarà con le stats Più fake Qualsiasi Mi devo fare un attimo Un recap Dei playstyle Perché mi dimentico Allora Luce a tutti quanti Tranne procione E intercetto Il che è abbastanza Scam Colom anisce C'ha tiro di precisione Tiro potente Capocciata Calibrato Cross Procione R1 E razzetto Ok SN cosa c'ha Joghe e procione Calibrato E pinged Con la batteria Parchetiello Invece c'ha Tutti quelli di passaggio Molto interessante E l'intercetto Con R1 E calamita Molto valido Chi quello c'ha Razzetto R1 Rapido Questo con i doppi passi Come va Perché questo c'ha Un body type strano Pallonetto E tiro potente Col Tiki Taga E lui è mancino Giusto Mi ricordavo bene Park invece è destro Lampard invece abbiamo detto C'ha Pinged Calibrato Procione Tiro potente Ovviamente è destro 4-4 E Linegar è destro 4-5 Con Praticamente un cazzo Però c'ha tutti i pistali Di dribbling Vediamo Andiamo dai Let's go Tato Vidic 91 Vabbè dai Tato Kakà Dal pacchetto 84 Più A Magari Padillac Fai Il titolo Della live Con questi giocatori Qua Partendo da ACN Ovviamente Poi altri Random Marone Stiamo iniziando La Weekend League Adesso da Max E devo Ancora iniziare La Weekend League Da me Già Già sento E prevedo Che lunedì Sera Mi distruggerò E te Ci abbia Lonza Dato un sacco Di conti Vero Esatto Se giochi tutto Il fallo Finisce anche Una settimana Prima Io finisco Non facendo Tutto Bene Dieci giorni Prima Sempre Benissimo Il nostro amichetto Stronzillo Ci ha fatto perdere Una partita Della nostra Weekend League Grazie Raffa Man Let's go Grazie Padillac Grazie a Max Provo tutti i giocatori Del database Entro le 20 Oh ma dove cazzo lo trovate Al mondo Uno che vetesta Praticamente tutto Il team Manco mezz'ora Dopo che è uscito Freddo però mi scoccio Di chiudere la finestra Ah devo registrare Mi stavo Dimenticando Trovato Zola Nel pacchetto 88 Inutile ma buon sub Ah Più o meno Allora vediamo un po' Come è il gameplay Vediamo un po' Come si comportano Questi amichetti qua Fammi vedere sto park Soprattutto che Mi interessa decisamente Tanto Bellissimo Questo primo Gol subito Bella parata di testa Del buon Chi è quella Del buon Van der Sar Vada con l'omani Bello Bello quel 70 Di passaggio lungo Mi sa che si invertono I giocatori Bravo Lampard Vada di Neger No Mi sa che si invertono I giocatori No Time at the loose Si invertono Essien E Coso Li trova Dovidic In un pacco W86 Eh ci sta Capito ragazzi Si invertono I tre centrocampisti Ecco l'essien Let's go Come si fa con la skill L1 R1 Più analogico destro Se digiti punto Scamativo skill Ci ho fatto anche il tutorial A inizio anno Eh lo so che si giocatori Si invertono Un po' di pazienza Ma da lì Neger Lo fa Let's go Quando consiglio Spassionato Quando siete davanti Al portiere Che vi sta Vi siete uno contro uno Davanti al portiere E Il portiere vi sta uscendo Contro Ok Fate un tiro a giro Tenendo premuto R1 Più tasto del tiro Ok Caricandolo pochissimo Come ho fatto io Quel gol lì Perché vi fa Questa specie di Tra virgolette Driven shot Che Che entra Il portiere Non ce la fa Prenderlo E non rischi Di tirarla fuori Sul palo SBCD Che consiglio di fare Al momento Cantona E Socrates Per ora Mo' Vediamo Sto essendo Come si comporta Sto keywell Sto keywell Sai che non mi sembra Non mi sembra Brutto Vedici Chi è questo Singo Ma park Park c'è 5 skill È vero Madonna Park 5 skill Ed R1 Volo Che forte Cantona Dubbio Park è la prima partita Che stiamo provando Luca Voglio vedere un po' Vidic Ma sto don Tico ragazzi È gigantesco È un dinosauro Sto Vidic Porca miseria Oh No Mi ha spostato Il portiere Ciao Manuel Buonasera Devo un attimo Capire Devo un attimo Vede sta roba Di SN Mo' devo capire Un attimo Come sistemarli Bene Per non farli invertire Qual era la questione Della lettura difensiva Chi cazzo è che c'ha La lettura difensiva Più alta Di SN Boom Keywell Col destro pure Potrebbe essere Mataus Ma di chi parli Di park Oppure di SN Beh sì Potenzialmente Sì 5-5 Card molto simile Mataus Sicuramente È un po' Più difensivo Toto Quattro Keywell Pezzotti Ti esce solo lui Park Eh potenzialmente Sì Ma l'hai trovato O te lo vuoi comprare Perché se l'hai trovato Mettilo in campo Però Valo Sono andato a vuoto Qua Portiere Quattro Keywell Al decimo Ti esce Un bollino Di Come si dice Bonus Fedeltà Vada Lampard Per Lineker Au Au Lineker Che è quello Lampard No Madonna Colomani Che passaggio di merda Che c'ha Mi ha sbagliato Divo 4-5 In 30 minuti di gioco Semplici Valo insomma È troppo pesante Me lo compro Park vicino alla Rolfo E non lo so Lo sto provando adesso Sto park È la prima partita Che sto facendo Non ho visto ancora Se difende Automatico Oppure no Au ma quanto corre Corre Quanto corre Questo Lineker Grazie per la Sabba Sium Grazie mille Per il 28esimo mese Maranno Bello de casa Sium Come stai Bello mio Punto e scamativo Gruppi Questo Lineker Sa 57k Card uscita letteralmente 50 minuti fa E appunto Frate Sono d'accordo Mamma mia Vai SN Perdonatemi Mi potete dire Quanto costa SN Bravo Mi potete dire Quanto costa SN Toti Rispetto a questo Che costa 870k Al volo Colomoni Lo puoi già Levare No vabbè dai Per il passaggio Per me C'è un giocatore Che sbaglia Questi passaggi Così è Quasi for fun Però Vabbè Lo stiamo provando 340 SN Toti Per 500k Di Di differenza Per Per il 14 Di tiro E poi Un più 2 Più 2 Qua e là I livelli Stati non sono Manco eccezionali Però vabbè Vediamo Magari può essere Dipende da chi Avete come CDC In realtà Bravo Van Dyke Vidic Attenzione a sto Vidic ragazzi Attenzione a sto Vidic Questo è il 90 Colo top Capito Bravo Vampard Il grande Yaya Base Beh Yaya Base Te prendi Joe Ellington Tuono Che costa 20k Ed è più Forte Da CDC Madonna Quell'Ugarte Oredon Parca Attenzione Con l'intercettino Qui Con il Playstyle Azzur Bianco Del Parolo Zedigno Buonasera Grazie mille Per il ride Buonasera Non voglio perdere Grande Faccio Grazie mille Zedigno Fatemi uno shout out Al signor Zedigno Buonasera Amici Zedignoli Aiuto 17 3 Va bene Ma va bene Va bene Zedì Ormai La VL Si fa per il Meme C'ho fame Regà C'ho fame Perso contro Due Difese a 5 No Sono ingiocabile Difese a 5 Sono veramente Ingiocabili Settimana scorsa Mi pare Stavo tipo 13-0 14-0 Mi ricordo No Stavo 11-0 Ho incontrato Uno con la Difesa a 5 Che mi ha fatto Perdere Proprio la voglia Di giocare Ho detto Basta Chiudo a 11 E ho regalato Tutte le partite O questa Settimana scorsa Non mi ricordo Ah oltre a quello Sono proprio Troppi giocatori Cioè Poi sono tutti Quelli che giocano Tutti quanti Chiusi A me Siamo Le stesse cose Purtroppo Questa Difesa a 5 Comunque Vidic mi ha fatto L'intervento Della madonna Qua Ti bacio Vidic è molto Simile a Van Dijk Raga Col Fa che sei un nano Eh ovviamente Bravo Sien Let's go Come l'abbiamo gestita bene Questa uscita palla Però poi davanti al portiere Mi sono cagato Attenzione Boom Cotto 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 Sotto a 6 Poi si vengono Shingle Si pare di giocare Contro il Mule Bell Bra Esatto Allora che sia Nelle stats Importanti ha solo Più uno Dal toti Solo bussate Stats di tiro Quindi farci capire Se sto tiro Vale la pena Spendere così tanto Ovviamente Per un cdc Non ha assolutamente Senso È più una questione Di doppioni E Una questione Di cosa C'hai tu Davanti alla difesa Secondo me Adesso a centrocampo Siamo Belli Belli pieni Stemmi rivolgo Il santo La casa Io sono migliorato Grazie a te Sì ma inizio anno Mi diverto pure io A giocare la weekend league Tanto Poi Ti ripeto Per me la weekend league È una modalità Banco di prova Eh sì Luca Giocabile Sicuramente Però Rispetto a questo qua È comunque Un Downgrade Quanto costa Sto Vidic Sì esatto Fil duro Nell'evo dove tu consigli Tonali Secondo te Chi è più forte Tra Goretzka Ed Emre Can Goretzka Emre Can Io non l'ho proprio Consigliato Korkam Ma io non fare Nell'uno Nell'altro Al momento Aspetterei Tu 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 Ho detto prima Ho trovato Vidic Ho fatto una senza Per sé di pensiero Non lo vedo Però full automatico Ti dici Eh ci ho fatto una partita Al momento Mi ha fatto un paio Di interventi Decisamente buoni Eh ti devo dire la verità Anche di fisico Ovviamente Ma non evita Sto Lineker Vedi a questo Lineker Oh però Corre il bro Eh 50k di attaccata Vabbè c'è sta Vampersi Quando c'è sta Vampersi a 60 Tutto il resto Attenzione Evita sto park Eh ragazzi Sto park Mi sa che si prende Il posto di Bruno Ho detto 8.75 Il 94 180 Il 91 Chi vuole cannoniere Non mi ricordo Le stats Abbi pazienza Ma questo che gli abbiamo Messo a sto chi vuole Si mi pare cannoniere Eh non mi ricordo È bello pesante Sto SN Invece dei 6 lì Che è appena uscito Quanto costa? Sopra il milione Se Vedi ci sta 9.40 No 8.70 Il park È la Sawa Uomo No Ci azzecavo Con il tasa Questo è un metro e ottanta La Sawa Un metro è un cazzetiello 6.80 Dei 6 lì Ma lol Bravo SN Eh però che pulizia Gli interventi Adesso SN Porca miseria Vai dritto per dritto Sull'avversario Sei God Vabbè diciamo che Me l'aspettavo 6.80 Dei 6 lì Ah no E 8.70 Invece quell'altro 12 Che ho fatto Sto powershot Totalmente No sense Che ho fatto C'era poco senso Eh sì Sono molto simili Come giocatori Forse Questo SN Lo trovo Un po' più Semplice Da utilizzare Cioè Meni Un po' meno Immediato Però È abitudine Vabbè ci ho fatto Una partita e mezzo E tra l'altro Lo sto giocando Con invertiti Perché in sto cazzo Di modulo Sono Si invertono Sempre Quindi Aspettate la fine Della review Rega Come sempre Bravo Solidarietà Per John Eh sì Eh cammafare Che ha un po' di pazienza Siamo in un mondo Al contrario Dove se fai le cose Bene Ti puniscono E se fai il tossico Sei più Sei più seguito E Più Rimembranze Eh buono Sto parquetello Eh A Davidic Park No non andai Fuori gioco Bro Colomani Controllo Tiro Boom Colomani Bella finalizzazione Qua È in Pro live Di Oblun Madonna E hanno Azzerrato i Crediti Senza motivo Ovviamente Vediamo come Vediamo come va Bravo Park Park Bello fastidioso Sto park Eh Eh sì Orano Non so se siete Nel gruppo Sub suo Oggi pomeriggio Ha mandato Un audio Dove l'ha spiegato Singo No Madonna Bravo Lampard Ma io la SN Proviamolo un powershot Nessuno Guardia per ora Vi faccio il video Su youtube Che esce domani mattina Vediamo se farvelo uscire Magari stasera direttamente Non lo so Dipende Da che orari facciamo E da che Tempissi che ci abbiamo Se voi ti invito Già al party Così sta pronto Come preferisci Cassani L'importante è che Non chiudi la console O esci Perché sennò L'invito poi scompare Meglio Werner o Drogba Eh Su due giocatori Totalmente diversi Uno è gigantesco E va usato Con i doppi passi Uno è piccolino E va usato Con l1 Più corsa Dipende da Dipende da Come giochi tu Controllo Sprint Boost Ce l'ha il filtrantone Vada Vada No Sono un demente Volevo far fare Un gol di testa Caccolo Moani Questa è Sien Vieni qua Bello de casa Vieni qua Sien Vieni Vieni Sien Vieni Charton Ala è buono No Non corre Finici Beh Ce l'hai? Fai la Sa spondina? La vola La vola Niente Sto vincendo 2-0 Eh sì Godo Buonasera Luca Ma io Marotta Rabdo Su PES 12 Era un mostro Massif Ma perché lei Se ne viene Con queste cose Totalmente random Pototo Lampard Nel pacco da 35k Nel negozio Manita di Drogba L'80 All'omessimo vince 6-5 Easy Forte Drogba Forte fort Forte 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 Clue Drogba Punto escamativo Drogba Mia moglie ti chiama CiccioGamer Che gli devo dire? Sono io il comandante dei vostri Pacuno Come dice? Come dice CiccioGamer? Ma l'hai trovato Edo Lampard Adesso che l'hai trovato Provalo Ho messo giusto un terzo Di CiccioGamer No A me sta simpatico CiccioGamer Io non ho mai seguito Ma perché io non ho mai Non ho mai seguito YouTube in generale Cioè non Anche adesso Io non guardo video su YouTube Capito? Non c'ho il tempo Per farlo E un po' mi pento Di non aver mai seguito YouTube Italia Però a me Ciccio Sta simpatico Eh Bravo Keywell Non ce l'ha Devevano persi Rubus è forte Ah e vabbè Figurati Chill Bravo Call No allora Frank Dici a tua moglie Che devi Deve imparare Il nome del santo Deve imparare Il santo Il santo Io lo devi mettere in testa Il santo Il santo Il santo Brand identity Il santo Foot Universe Benvenuti su Top of Flop Dovete essere le carte Che se non devi farlo tu Colomoni Mamma mia Sto Colomoni Sta a pezzi Se si mette Barcola a base Una combo Può diventare 5-5 Eh vabbè Barcola rientrà In tantissime combo Fortunatamente E Sì 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 Ce lo siamo guardati Ce lo siamo guardati Barcolone Sì Andrea Funda scantico Drogba Drogba Nella fine Ti chiama Il fidanzato Di Banni Ehi Ehi No ragazzi No non avete capito niente Bravo Parchetiello Qua No Eh sì Rufus Sì Vi vale Vampersi 60k Il Vdc base Posso essere caro Salberto Non lo so Perché non ho provato Vdc base Ma sono due difensori Centrali diversi Grazie mille Marchesino Per il ventiduesimo mese Come stai? Vada colomani Vada colomani Vada colomani Vada colomani E se hanno tolto i 3.20 Continua a scendere Sì perché la gente Mo se sta Vendendo quello là E si sta sbloccando questo Con i foda Ragazzi siamo pieni Siamo veramente super pieni Vada colomani Ah però Correre corre Il bro Ti devo dire la verità Vada a mangiarci Domani a pranzo A meno che non vogliono Sfoggiare il suo giacchetto Non lo so Vediamo domani Com'è Com'è la situazione Io ormai Ormai le live di pranzo Ti devo dire la verità Tu Quasi mi pesano Ti devo dire la verità Lampard Frankie Oh che cazzo Passaggio ha fatto Qua Lampard Lampard Come si fa a controllare Il portiere Tanto al calciano Devi tenere premuto L'analogico Destro Mentre Mentre sposti Il tutto Tieni premuto L'analogico E lo giri Vada Essien Corra Corra Essien Mi fai vedere Questo 94 Intercettazioni Signore Essien Fammi intercettà Che ho sbloccato Essien Buonasera Appena tolato Puskas Attacco Henry Messi Cantona Troc Bamo che faccio Quello Puskas Simil Messi Dovresti togliere Messi Provalo Vedi Vedi Al posto di chi ti piace Togli quello che ti piace di meno E Metti sto Puskas Provalo Io non l'ho provato sto Puskas ancora Pum Caccia sto colo Moani Stiamo provando Sistume Sì 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 Padillac E hanno Gli hanno zerato i crediti Mariano Sei assolutamente Senza motivo Padillac Ricordami il link Tra due minuti Allora Carica i file Ma lo devo fare Una pulizia qua Incredibile C'ho troppi file Tra Cacca e Derri Eh Bliffer Io Cacca non l'ho ancora provato Quindi non ti so Dare un parere su Cacca Pochi Sistume Rimani in chat Che poi alla fine Alla fine ti fai Ti stucchi il recappone Sì Mariano Ovviamente Non serve manco Non serve manco Dirlo che non abbiamo fatto Nessun Non ha fatto Nessun tipo di Di azione illegale Va bene Alfio Fatti verdi Palle ragazzi Sto verdi Mamma mia Ho trovato CR7 Che faccio Lo metto nella Evo No Uè Dima Marone Da quanto tempo Dima Che si dice Fada colmo Anì Faccia vedere Che tutte Le milioni di ore Le mani di partite Giocate Per sbloccarla Da quel passo Di merda Sono Valide Vada park Ma allora Che dito in culo Sto park È fastidiosissimo Ve lo giuro Non c'è male Non c'è male Non c'è male Signor Dima A lei che si dice Come si è annoiato Sì perché Sto cazzo di verdi 1 metro e 70 Di il giocatore L'ho stata spammata 15 giorni Tu ti stai innamorando Del coreano Non posso sbuffar Come quello dell'anno scorso Di park Dici Oddio non mi ricordo Quello dell'anno scorso Che era quello dell'anno scorso Il fantasy Tipo Gio sul perizoma Di padillac Che verdi Non mi stuzzica Manca un po' Ah Eh ma no Quel park Marvel Mamma mia Vada con lo mani Vada line Faccia valere I suoi 57k Molto bene Ma poi c'ha quel Playstyle Dell'intercetto Base Che veramente Gli Gli fa prendere Un bel po' Di pallette Secondo me Lo sai che Toglie il posto A Bruno Sul mio account No ma l'avevo spostato Il filo interdentale Lo lascio a voi Viva la mutanda Della nonna Bravo Movidic Madonna mia Questi passaggi Di colo E ho preso Goal E' giusto E' giusto Park Osawa Stiamo ancora fidendo Di provare Park Aspetta un attimo Poppy E' troppo lungo Il messaggio Marco La Farà scadere Metà il 5-5 Un'altra scaduta A metterla in questa nuova Non si possono fare più Levo scadute Levo interrotte Cioè Scadute Legittimamente Sì Ma interrotte Come facciamo Tipo a dopo Non si possono fare più Vada Colomani Non ci credo Tra Colomani E Mbappé Non fanno un passaggio Buono in due Oddio Mbappé Con un'ottantina Di passaggio La tiene Sto Colomani C'ha 70 Con 79 Di effetto Madonna mia Ma non vi rastro Linegar Può giocare Eh Nicosi Tu 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 Ma dai che gol ha fatto Eh Il verdacchione a incrociare Bravo Van Dyke No 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 Il pressing Vada Colomani Doppio passo Niente Vedici La faccia che non c'hai playstyle Sto Vidic Se li teneva che era Ma non l'ho visto Colomani E infatti Robby Kine Mi sono dimenticato Di portarmelo Lampard Essien No volevo Provare un powershot Ma contro questo Non si può fa' Arbitro Ma è una zoccola Nooo Ma che è sta roba Un cdc forte forte Vieira Toti Berba dove è molto forte Sono d'accordo Buonasera Simo Ho provato Lampard Una busta Parque Che quello come sono Che ancora li devo provare Ce li ho tutti quanti in campo Anche Lampard Singo Ecco qua abbiamo acchiappato L'avversario Che mi sta facendo passare La voglia di campare Vieira Toti Costi Grande Wanderstar Le faccio i miei più sinceri complimenti No Non è vero Prove Non è Non c'è assolutamente Nessuna C'è in arrivo Una SBC Icon Brasiliana Ce ne stanno 4 5 possibili Quindi non si sa Che esce Digno Palle Mamma mia ragazzi La faccio più Le stesse cose Eh sì Voi Voi avevo Voi avevo consigliato Io l'altra volta Così come vi ho Straconsigliato Vampersi Così come vi ho Straconsigliato Socrates Cantona Costi Mi puoi fare Una domanda Fatta bene Per cortesia Se no Non ti riesco A dare una mano Per favore Ce ne stanno tanti Di cdc C'è via A base Ha spostato Il portiere Buonasera Copa Temo Chi potrebbe mettere Nel live Di stasera Al momento Nessuno Ragazzi Vi faccio Il video Fatto bene Dopo la live Ve lo faccio Uscire su youtube Senza fretta Perché in live Ragazzi ho capito Che ormai in live Non si possono Fare più ste robe Perché cominciate A spammare Nomi di gente Della quarta Lega turca Solo perché vedete Che ci hanno 90 di velocità E 99 di tiro E non va bene Mi nervosisco solo Allora preferisco Aspettare Quindi ve li faccio Ve li faccio Con calma Poi ragazzi Su tiktok Su instagram Su youtube Vi faccio uscire Tutti i video Con molta più calma Così io vi do Vi faccio un consiglio Più preciso E voi ve lo vedete Con più calma Tanto non Figurati Che cazzo Dico a fare Non dovete avere fretta Di fare le evoluzioni Metto il link Sul gruppo Sempre Ogni contenuto Che io pubblico Vi metto il link Sul gruppo Non c'è neanche Un video Che non è Non è inserito Nei gruppi Sempre 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 No Vado a cenare Ce l'ho Una mezz'ora Vai tranquillo Cassani Vai tranquillo Non andare di fretta viera base può ancora circolare sì c'è il raccio a meni però che è più forte di viera base indovina la nazionalità di di questo robbi 69 bbq olandese infatti hanno i carciofi ripieni a me non piacciono sien può sostituire la mires viola e monetizzare lo stiamo ancora provando questo sien abbiate pazienza ci finiamo il test vi facciamo il recap e dopo vi facciamo tutti i paragoni il link sì mi ero dimenticato tu 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 eccolo è arrivato pom 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 dai bro ci è scassato tre quarte wall questo modo di giocare mamma mia io gli sto antipatico grazie mille delvo per il ride benvenuti amici buonasera sono antipatico a tua moglie frank castle come mai sono antipatico a tua moglie no questa è la prima volta che mi succede una roba del genere no ma che gol ho preso sono le gambe del portiere lo stiamo provando si stume posso dar tu inconsideri di testare quando vuoi Gino là mi sta segnando a qualsiasi posizione più l'omazione più regge contrasti io non premo manco triangolo per difendere che non mi esce io non premo triangolo per difendere che cazzo serve il triangolo per difendere? a John Andrea che ti seguo e ti tolgo del te vabbè devi dirle che devi dirle che invece di invece di seguire uno streamer e stare a casa comunque a farsi i fatti sui potresti stare tranquillamente in un bar a ubriacarti con i tuoi amici e andare a donnine simpatiche e invece no sei a coltivare la tua passione la mia invece per dirti che sei iper simpatico grazie mille signor Vegeta facciamo anche un ringraziamento alla signorina Bulma bravo Lampard non me l'aspettavo la linea guerra è forte contro quelli che non sanno giocare ad Ultimate Team che non sanno giocare qua il gioco mamma mia mamma mia raga lo sapevo che eri un rimorchiatore di primo pelo hai visto? un buon attitio oltre un pappeggino là massimo 2 milioni Van Persi Berbatov qualche evoluzione di questi giocatori che stanno uscendo mo' con 99 di tiro Barcola e ce ne stanno un miliardo Melio De Jong o Park non lo so perché li stiamo ancora finendo di provare ma da Kiwell Bulma ringrazia grazie grazie mille grazie mille grazie mille ci chiesi dei premi per reggere il contrasto L2 per farti capire quanto è una è una meccanica che non ti serve tu fino a oggi hai creduto che triangolo era il tasto per per proteggere la palla e tu credevi che lo stessi facendo Drogba pure è fortissimo Piali pure non è male tutti questi di questa promo con l'Aso alla fine sono buoni hanno pompato le card in una maniera ottima mamma mia questi passaggi mamma mia mamma mia ciao Firestarter buonasera guarda Kiwell niente grossa win sta promo esatto sono d'accordo alla faccia di tutti quelli che dicevano no che schifo la promo ho volato dopo il football e invece pensavo era quello ma comunque non lo facevo mentre quando l'attaccare il cervello non ce la fa comandare le mani su due fronti devi fare le cose automatiche tu non devi pensare a quello che stai facendo in campo grande Lineker le faccio veramente i miei più sentiti complimenti per questo goal che lei mi ha appena sbagliato bravo SN ora si spara un powershot questo SN intesa vialli e motore riguardo le card che ho da so per essere così forti come mai costano così poco perché sono iper droppate veramente ogni due tre pacchetti una una card esce no snappo io non guardo le revido gli altri è uscito il 2091 busta non lo so non l'ho provato sto provando il 94 cioè quello top capito no ma è laggiù ci sono io che ho un aperto i peggio pacchetti e promo 0 non ci credo Alessio non ci credo neanche un po' ma lo giuro quindi sono l'unico che non ha trovato una ceppa ma raga ma non ci credo che non aveva cioè veramente oppure Padilla ha trovato 10 promo e ha aperto 15 pacchetti in due settimane e niente Lineger allora Lineger l'obiettivo non è quello di prendere il palo quello siamo noi in discoteca lei deve fare gol lei deve segnare lei la palla deve far entrare nella rete i premi di 16-0 no Alessio allora tu non hai capito ancora bello mio io te voglio bene ma tu a me non mi ascolti più l'AVL nell'AVL non si scula i premi dell'AVL non servono per fartela gioca ma quando volete capire sta roba i premi dell'AVL fanno schifo eh vadi fai un double check sulle cose che fai per cortesia perché non voglio avere il commento di Lorenzo che mi dice che capi? grazie mille no Alessio non è possibile vabbè comunque fate quello che volete voi io non so più che dirvi ragazzi sempre a dirvi le stesse cose ma non ve scocciate voi a di sempre le stesse cose io mi rompo un sacco ma pure nel mio quotidiano quando devo ripetere le cose 3-4 volte alla stessa persona dopo un po' non le dico più perché mi rompo le palle mamma mia ragazzi ve lo giuro questo avversario mi ha scocciato in una maniera incredibile mamma mia sto vedine che resta abbastanza a pezzi fammi aprire un attimo la finestra che c'ho caldo non si capisce se fa caldo fa freddo mamma mia niente perfetto non vedevo l'ora che finisce questa che finisca questa partita eccezionale benissimo fammi togliere un attimo sto lineager che ragazzi è ingiocabile ve lo giuro vabbè adesso io non so più che dirti hai ragione tu mettiamo drogba anzi no mi voglio provare sto kin che nel caso war chicchia gli metto un cacciatore al bro unlucky vabbè let's go vediamo un po' come rende questo lineager veramente è una merda mamma mia pali, traverse, a porta vuota time head verdi che vengono tirati sui pali punto scantico Vinicius, Luke eh lo so Vajek ma purtroppo la gente non la capisce sta roba crazy rumba e siamo al secondo quit sul pareggio italiano due quit sul pareggio due italiani a me non piacciono né Charlton e né Cruyff ma in realtà manco Lewandowski faccio barcolare libero il potenziale la posizione a tank antatomico non è un secondo me bisogna vedere le stats se rendono oppure no nessuno per il momento gdb vi faccio uscire il video tra poco eh ma perché perché warrior leopoldo fred perché secondo te perché sei uno gente di merda pensavo di essere scemo io che preferito Francesco Leccialto no 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 me Cruyff non piace ragazzi quest'anno però me lo scioppa e finge di non scioppare perché si vergogna ah ragazzi ma se voi ve lo potete permettere beate a voi che vi potete permettere di scioppare quando volete allora vediamo pure sto kin come si comporta dai bene mi sono schiantato dentro via ira stiamo provando Francesco alla fine del test vi faccio il recap di tutti quanti l'unico di cui mi sono espresso su cui mi sono espresso già è Lineger che è veramente una merda non c'è bisogno di di approfondire più di tanto forte kin ma non l'ho appena messo in campo Kratos kin ah questo c'è calamita ed R1 i miei due prestati preferiti vada Kewel doppio passo vada Kewel vada Kewel raccolga quei Kewel no non va ne aspettavo un colpo di scena invece diciamo a riguardo Lineger se Lineger diciamo grossi dubbi non c'erano vabbè 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 si è in abbastanza in ombra sarà che magari non è al suo non è al suo agio perché non c'è acerbi in campo ah è non male Oradon no si stupe no io i test li faccio 99% alle volte sull'account di Max Robby Kian dentro per Park Giswong Park Giswong allora ma su Park vola con R1 madonna ad Sien ah no era Colomoni un po' assente Sien è vero beh c'è pure da dire che in realtà non è che sta cioè non è che gli stanno giocando contro capito come te devo dire stanno giocando pure da altri da altri in altre zone di campo lo sto provando a portarmelo un po' in a spasso tanto avendo il giokei plus Lampard forward to Robby Kian no zio vero ad Sien ad Sien ad Sien niente c'è Singo un po' essiente il Park Forte avrebbe periodo il Playstyle del Park Scarso e pure su Berbatov per esempio hanno fatto la stessa cosa preferisco i Playstyle del Berbatov cioè la calamita in realtà perché il tiro a giro è eccezionale di quel Berbatov però avendo 82 di di tiro dalla distanza boh vabbè fanno sempre sai quelle cose un po' a metà ma da Robby Kian niente piccoletto sto Robby Kian che cazzo mi ricorda sto Robby Kian bravo Vidic ciao Max c'è un 3 misi full difensionale molte partite attestate perché spesso sono situazionali eh sì sì ma tutti i giocatori hanno bisogno di tante partite per essere giocati tutti tranne Lineker l'avete visto Lineker che merda tutti i giocatori difensivi soprattutto considera che a me Sien è sempre è un cdc che è sempre piaciuto soprattutto nelle versioni speciali quando fanno Sien con le stats di passaggio boostate diventa sempre una card molto interessante ma questo ha 5 skill no madonna madonna un diavolo straagile il bro vabbè racconta la chat non si sa quando escono i tots e secondo me ma non c'è nessuna informazione ufficiale metteranno sia maschili che femminili buonasera vale suono vele suono scusami c'è Robby Keen lanciato lanciato in porta Robby Keen Robby Keen in area di rigore boom lo fa mi sono perso tutto i brividi capito morgan con berba dopo che mi sono davanti ma non riesco ad utilizzarlo bene per via della pesantezza di fianco a ginola e devi usare tutti i passi o r1 o entrambe le cose cacciatore a park no mi pare gli ho messo ancora a park Robby Keen doppio passo oddio oddio sto Robby Keen quanta costa sto Robby Keen adesso faglielo un cross per Colomani che c'ha il zompazzompa plus no lo stiamo provando ancora gratos guarda questo è per single no 100k fa questo Robby Keen beh molto bene devo dire mini release che costa 100k ottimo niente messi a non gli amm cioè ci ha messo il piede ma non ce l'ha arrivato manco qua pure è uscito a cannone fuori si ha droppato droppa sicuro vieni giù 70k adesso cioè costa meno di vampersi che è uscito una settimana fa molto bene raga io vi invito proprio con con amicizia vi invito a provare vampersi se ancora non l'avete fatto regalato si tra l'altro c'ha due playstyle ottimi ma sto park ragazzi ma che cartona è ma io non me la io non me l'aspettavo molto forte vampersi kratos probabilmente qualità prezzo è il miglior attaccante del gioco qualità prezzo per quello che costa per come rende il miglior attiti del gioco anzi secondo me la miglior coppia d'attacco al momento low budget è proprio vampersi berbadov e tronco no costa la metà della evo di stasera bra ok che quello dà 99 di tiro quella evo però non è giustificabile secondo me che colo è è il colo moni del pass degli obiettivi degli obiettivi dei pass padilac dice che si sta trovando bene raga ascoltate i consigli del pro player del cadanzaro femminile ciao fede buonasera non vado a comprare che ho verner e mi serve un altro atti con un milione vai con vampersi verner si che per molti in chat ciò che altro per scrivere non è nulla di che ma grazie a te già sono riuscito ad arrivare in terza nelle rivals obiettivo che mai avevo raggiunto nei viva precedenti bello di casa ma zio ma io te l'ho detto e ve lo dico che voi il potenziale ce l'avete dovete semplicemente capire che cos'è che sbagliate non farlo più e sostituirlo con la cosa giusta poca roba max meglio socrates o cantonà eh socrates essendo essendo e se ne maghele come cdc su 422 chi passa eh oddio ma sono piccoletti però eh robin van persi allora tu pensa datore che io su fifa 14 io avevo e ho comprato la maglia del bar del manchester united quando sono andato al trafford per robin van persi perché su fifa 14 io ero innamorato di quella card di robin van persi e mi piaceva troppo la sua esultanza era un'esultanza dove lui apriva le braccia e faceva ed era l'unico che poteva fare quella esultanza no non ti preoccupa ma zia ho capito bravo qui chi era quello vialli maron come sarà andato bene vada chi vuole quei doppi passi vada 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 park vada park questo è sua park anzi no questo è di sn è bello pesante adesso sn devo dire la verità ciao ciccio lam vorca cdc si è possibile la mira adesso lo metto terzino no no centrocampista non mi trovo attacco a due già che su sto gioco so solo difendere e manco arrivo in porta buono che stai solo difendere rosicchi sembra bellino un dio insomma ce le ho su tutte e due accanto però no non l'abbiamo mai provato vada robin corra 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 robin corra 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 boom ok ok molto simile a benedere questo è molto molto simile a benedere doppio passo zero molto simile a benedere mille x line che era assolutamente sì anche lui 60k di giocatore 50k di giocatore free padrack lei che è esperta di fc24 e che è una propria di carattina mi diamo un consiglio contro il pd 3 4 2 1 vado giro là dal pacco 3005 ah ho capito che bello quando sculacchiate voi ok per la prima volta quest'anno sono arrivato in divisione 2 let's go sozuen l'aspetto in divisione elite no c'è cino asin no guardo parola ancora cane presa aspetto che max lo scula tra oggi e domani grazie al santo bella di casa sozuen no fattanza no ho messo la maglietta sbagliata la maglietta dei coniglietti no 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 lei è una giocatrice professionista signora padrack come sta fattanza visto la notizia del giorno basta con questa umiltà atteggiati padrack si atteggi lo fa lo fa gente che non sa parlare in italiano e dà consigli su ultimate team per sentito dire mo si figuri se lei non può dire la sua no 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 poveri giswaz vada colomuani madonna mia ragazzi colomuani ha una percentuale di passaggi sbagliati superiore al 100% cioè ne prova 10 e ne sbaglia 11 sembra il cante base dei vecchi giochi ma mi aiuti ad attaccare mi spiega come ti fa non devi usare il tasso della corsa non devi usare i tassi del filtrante devi giocare a due tocchi e non devi andare dritto per dritto ma devi far salire la squadra vi dovete staccare quel tasso ma io non ho fatto questa skill vi dovete staccare il tasso della corsa e il tasso dell'r1 dal pad boom è un fodder mamma mia mamma mia ragazzi non dico che fa schifo perché non fa schifo però sbaglia troppi passaggi bravo gol bravo gol e sien dentro per colomoni una finta colomoni e questo è un bel gol uso solo filtranti e comincia a smettere di usare i filtranti e vedi come cambia il tuo rino il tuo gameplay conviene prendere il gerzigno no ma alla fine si fanno per il meme è comunque un giocatore francese del psg che quanto possa essere quello che è comunque francia psg 4 e 5 magari rientra in qualche evo tra 72 mesi al momento non ne parliamo per essere gratis è comunque una carce se vi dovete sbattere per prendere quello manino però alla fine i doppi passi sono pure buoni attaccante a 5 milioni r9 bappé bravissimo fa panso ma mamma che puzza van persi in motore schifo questo odio represso nei confronti di di colo oh no i cross di begham ciao michele benvenuto vada robicane robicane vedi rispetto a kilu a kilu cornuto di lineger come come rende meglio ma sto park che è forte ma sto park che è forte e vabbè padillac non tanto represso espresso proprio motore kratos motore che forte sto park jisung facciamoci l'ultima signori ci facciamo l'ultimo match e facciamoci l'ultimo match e poi facciamo il recap di tutti quanti e poi magari ci andiamo ad aprire qualche altro pacchetto let's go la rolfo torna a fare la terzina park la mezzaluna park la mezzaluna cioè si mette tipo a forma di c fuori al balcone mi aspetta una serata spacchettare e farmare cantonà cosa consigli di mangiare di sfizioso ma guarda le consiglio caso di guardare i video su youtube di banni natascia che consiglia tanti tanti tante belle cose a livello di food stiamo provando viva francescoli ma francescoli poca roba secondo me è buono ma non non è un top voglio farci le player al momento nessuno ragazzi vi faccio uscire il video non lo so se stasera o domani mattina cantonà mi sa troppo di palo ma cantonà è un palo ma i giocatori così come cantonà sono forti quest'anno e guarda madonna ragazzi è troppo è troppo importante chi lucazzi playstyle della calamita raga chi lucazzi che ragazzi calamita mamma mia ve lo giuro ti svolta un giocatore bravo park cantonà che abbiamo visto motore stasera arrivano vittich park e puskas let's go mi ha fatto un gol in 5 partite cantonà ma perché non si è abituato a giocare con questi giocatori evidentemente fedeli però pure tu hai detto che tu non riesci a arrivare 3 volte non riesci a tirare 3 volte a partita che non sai attaccare mi riguarderei riguarderei dall'ascoltare i suoi feedback signor fede ciao michele faccio esseno tengo manche lele ora vi faccio il recap di questo esseno ragazzi finisco questa partita che già so che già mi sono pentito di averla startata perché questo mi sta veramente ragardando senza motivo contro abbiamo perso pure calcio di rigore mi dovina la nazionalità del bro rieco 19 cantonà ieri 16 con i 9 partite da vuole mezzo tiltato io ho ingarrato il tiro nella direzione e niente la calamita come si attiva? ricevendo dei driven pass quelli con r1 più x e poi attivandola solo con il controllo palla attivandola con il controllo palla orientato devi fare quando ricevi il pallone con chi ha la calamita r1 più un tappo dell'analogico destro in una direzione e lui ti fa un controllo a seguire eccezionale guarda te lo faccio vedere così e ti fa il controllo a seguire funziona con tutti i giocatori in realtà r1 più analogico destro ma con chi ha la calamita funziona meglio vedi ma questi giocatori grossi vanno giocati con l'r1 Ivan Gino la cantona socrates lo stesso anche van persi berbadov tutti questi giocatori grossi se hanno l'r1 buono sono dei top a me da italiano non piace sentir dire che gli italiani sono tossici in game a me da italiano piacerebbe che gli italiani non fossero fossero tossici poi onesto con tutto il bene a me non me ne frega niente che su italiano dico che gli italiani sono tossici è una cosa oggettiva ci prendono su tiktok è pieno di 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 clip di gente straniera che incontra gli italiani e si vede dalla name tag che esce sul nome del giocatore che ci prendono in giro perché quittiamo tutti quanti sul pareggio perché facciamo melina perché facciamo le cose tossiche purtroppo è un dato di fatto Nicossi non c'entra il fatto di essere italiano oppure no ciao giuri pute sky drug bar rivoltino ciao menime ragazzi sto giocando contro uno che non va non va vada lampard dentro per robbie vada 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 c'è chi vuole dall'altro lato il doppio passo si è chi ha più in verdacchione niente ho sbagliato sul secondo palo il video è lo stesso ragazzi ho provato nello stesso c'è la review dello stesso gioco criminale van der sar che criminale ragazzi cazzo intervento ha fatto state un momento questi messaggi lunghi più o meno sono tutti tossici non dipende dalla nazionalità no 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 certo che dipende dalla nazionalità certo che dipende dalla nazionalità Nicossi certo che dipende della nazionalità sì ho visto ho visto dunque ho visto ho visto ma dopo vi faccio anche un bel video simpatico lampard c'è bellunzo gerard e begham quanti ne devi mettere se ce li hai tutti quanti io ti invito a provarli alfio aldo scusami che dipende dai tuoi gusti ma guarda uno te ne piace di più uno di meno ehi sesigna sembra r9 lobotomizzati uno è scaduto chabbi alonzo nico secondo so che adesso secondo è un top sì francesco stavo venendo dall'obiettivo e begham ho quasi finito l'icebisim ma è dipende da quello che ti piace a te giocare con rolfo e bruno secondo me sono superiori ma ti ripeto dipende dai tuoi gusti sì c'ho una fama incredibile bravo colomoni che fai cadere chi l'umierde Roberto Carlos basta fammi chiudere questa partita non ce la faccio più raga lo giuro mi ha intossicato incredibilmente questo match basta ma come peccato per Cantona Ivan è un top Cantona allora allora parliamo un attimo di questi bro signori poi ce ne apre qualche pacco che mi sono altamente rotto i coglioni danno le posate allora parliamo prima di SN parliamo di prima di SN allora 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 il costo preciso è di 880 grazie mille it's illegal per il prime ben venuti benvenuto benvenuto it's legal grazie mille grazie per il prime punto e scamativo gruppi controlla mafia controlla allora 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 880 880 k per un cdc 4 4 alto alto che ha preso praticamente un più 1 più due dalla sua versione toti che costa 300 k più meno però ha preso più 14 di tiro totalmente inutile per 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 la sab grazie per la sab grazie mille sozone per il quinto mese bentornato e punto esclamativo gruppi signor sozone gentilissimo let's go per la seconda divisione allora rifacciamo un attimo la 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 rk 880 k di sbc per un cdc 4 4 alto alto che ha preso un più 1 più più due dalla versione toti che costa più o meno 300 k e un più 14 di tiro totalmente random i playstyle di difesa a parte il procione base e l'affronta plus non sono neanche top perché nonostante il 94 di intercetto non avendo l'intercetto plus e non essendo 1,90 ma solo 1,77 tende ogni tanto a mancare l'intervento è molto simile a quel makelele bird è uscito qualche settimana fa lui è molto pesante sposta i avversari di fisico comunque molto presente in game però onestamente da un cdc del genere dopo che è uscito quel chihuameni mi aspettavo qualcosa di più la card non è assolutamente scarsa è una card comunque da 8 ma dipende molto dal cdc che avete voi adesso in rosa se vale la pena sbloccarlo oppure no con un'ombra appunto 8 ma per me al momento non è consigliata se non con un'ombra gli do appunto un 8 ma non è consigliata a meno che voi non abbiate un cdc ancora scarsetto quindi scrivimi nei commenti chi hai e vediamo se va sostituito punto esclamativo cantona Ivan allora parliamo anche degli altri parliamo anche degli altri bro parliamo anche degli altri bro allora ci facciamo Alonso Alonso qualità prezzo è più forte di questo Sien Ciabbi Alonso è più forte di questo Sien qualità prezzo qua ce l'abbiamo Max Ciabbi Alonso sì per me questo Ciabbi Alonso qualità prezzo è più forte di di Sien no Alonso quello scarso e questo costa zero raga costa zero poco c'è da dire sono d'accordo Henry Sien è più forte di Casemiro va bene Ivan non ti applica va bene non ti preoccupare non tantissima Paso però c'è tu hai Alonso 93 Alonso 93 è più forte di 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 Sien secondo me sì The Boon ma aspetterei qualche altro giorno però farei Alonso per averne uno più difensivo Nicossi allora parliamo invece di Park allora parliamo invece di Park e magari Park Keywell e King Golazo benvenuti su Top of Flop dove testo le carte così non devi farlo tu intanto lascia un like e un follow per la review e scrivimi e seguimi su G per contattarmi in privato e scrivimi e seguimi su G per chiedermi quello che vuoi in privato iniziamo ad Hakin è un attaccante molto simile a Benny Hedder stra-reattivo palla al piede super agile 1,75m è abbastanza fuori meta secondo me però alla fine se ti piacciono i giocatori piccoletti ha una finalizzazione incredibile sia col destro che col sinistro e con un cacciatore o con un falco è comunque una card per quello che costa intorno ai 60-50k assolutamente valida per quel prezzo però ti vado sempre a consigliare un Van Persie che è decisamente più forte ma è una card comunque discretamente valida Keywell è un ottimo esterno C.O.C non lo utilizzerei seconda punta nonostante il 5-5 perché quell'84 di posizionamento attacco la finalizzazione eccetera eccetera non sono proprio top non segna tantissimo ma lui è molto valido in fascia con i doppi passi con R1 stravalido da fuori tira anche molto bene è una card che secondo me se avete bisogno di un esterno in Premier League che vi faccia puramente la fase offensiva con un cannoniere è sicuramente una card da 7,5-8-0 non di più solo per la nazionalità Park è un centrocampista incredibile 5-5 alto alto che ha come unica pecca la nazionalità e nemmeno perché se avete Son va bene lo stesso il passaggio è buono non è un super passaggio ma avendo tutti i playstyle base più l'intercetto più la calamita l'R1 e la batteria plus risulta un centrocampista stra-completo ti fa entrambe le fasi ti arriva in porta ti difende sta da tutte le parti lo puoi utilizzare tranquillamente anche in fascia in un 4-4-2 ad esempio ed è veramente un top assoluto per un centrocampo in Premier League l'ho giocato con un ancora per boostargli la fase difensiva ma volendo lo puoi giocare anche con base con cacciatore senza problemi con motore per boostare il passaggio per me questa è una card da 8,5 se non addirittura a 9 solo per la questione della nazionalità può fare il cdc anche in una in un 4-2-3-1 sì tranquillamente sì non singolo ovviamente però però sì può farlo potenzialmente ma a me a me si signa non mi fa impazzire quest'anno eh il park e ciò a me ci può stare sì io lo metterò al posto di Bruno Fernandez la sera sul mio account è meglio Ciappi Alonso perché è più completo Giuse non l'ho provato Ibrera però secondo me è un buon il dc va provato poi Lineger sta a pezzi totale ha una buona finalizzazione non facciamo video no non è fracido però è piccolino scandusto eh sì ci sono Socrates o Cantonà dipende dal budget perché se hai cominciato da poco è difficile allora vi faccio edit com Lineger Lineger Golaso sta veramente a pezzi segna solo ma non corre e non sa passare il pallone ed essendo piccoletto viene buttato per per l'aria ok si si muove esce anche il video la buona venetazione il problema è farlo arrivare a tirare esatto sto lampard allora sto lampard ragazzi fa dei passaggi che non ha senso cioè non hanno davvero senso per quanto riguarda questo filtranti l1 difendicchia pure ma è una card che oggettivamente non ha senso di esistere Bruno Fernandes per me è più forte di questo lampard quindi edit com lampard lampard golaso è un buon gc ottimi passaggi e difendic difendicchia ma Bruno Fernandes è ancora più forte ad esempio Beckham SBC meglio di lui Bruno nel 4-4-2 è meglio con Park o con Chabialunz con Park hai trovato d'accordo ma non male simile a Gerard Gerard secondo me è più forte di questo lampard noi ce l'abbiamo su questo account Gerard e quello qua secondo me siamo là e più mi lasciate stare le stazze sono indicative no Daniele allora c'è altro di cui parlare ah Vidic allora facciamo un video su Vidic e Colomuani totalmente a cazzo come sono come sono Vidic Golazo e Colomuani birthday gratis del pass benvenuti su Top of Flop dove testo le carte così non devi farlo tu intanto lascia like un follow per la review e seguimi e scrivimi su G se mi vuoi chiedere quello che vuoi in privato partiamo da Colomuani è una card che essendo gratis 4-5 conosciamo praticamente tutti quanti le versioni vecchie di questo Colomuani buona finalizzazione buona velocità con i doppi passi ma sta a pezzi per quanto riguarda i passaggi su 11 passaggi ne sbaglia 15 sotto sto punto di vista è veramente pessimo playstyle messi veramente random finalizza pure ma è una card che non è assolutamente un must have cioè se non c'è arrivata nel pass non fa niente è giocato con finalizzatore ma è una card che lascia il tempo che trova con un 6 e mezzo 7 buono per ibridare i vari francesi del PSG Vidic è un difensore roccioso molto simile a Van Dijk stats difensive praticamente boostate al massimo è molto pesante per carità però se vi piacciono questi giocatori così pesanti può fare al caso vostro assolutamente è praticamente il Van Dijk delle Icon purtroppo non ha playstyle di difesa come Procione e intercetto perché non ce li ha proprio ma la fronte è il blocco base e per questo secondo me non entrerà mai in una top dei difensori centrali ma utilizzato manual oppure vai dritto per dritto sull'avversario e lo sfracelli lui è un signor difensore centrale se lo trovate sicuramente è da giocare gli do comunque un 7 e mezzo 8 meno esagerando con un'ombretta fodder stratosferico qua ci abbiamo colo più vidic qua invece ci abbiamo chi erano questi qua di prima park keywell kin eccoci qua e qua invece abbiamo sn vabbè si 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 castane non mi dimentico allora grazie a millo signor maxo io veramente la straringrazio come sempre para eltiest e estos cocadores questi li mettiamo un attimo nelle gala prima altrimenti trovate 3 ottane si assolutamente i pacchetti altrimenti sono sono vergognosi purtroppo allora questo va qua questo no lui non fa il c eccoci qua e tu fai la s oddio però aspetta c'ho socrates come faccio a togliere socrates ah no c'era il 4 3 1 2 che dovevamo mettere qual era il modulo per mettere tutti quanti max no si stuma se ne si toglie un momento si mette socrates qua tu che ruolo puoi fare ah cazzo i lanza in dove si mette 4 3 3 4 4 3 3 4 tu qui tu qui tu qui tu qui e tu qui era per giocare drogba pure titolare boh non mi ricordo va bene cosa hai detto ma io ho paura no ma no no non me la mangerò mai questa roba troppi colori accesi la carota patata e il fagiolo solo la benessere ma io non ho benessere scontante il fazzoletto mi serve proprio per evitare questo no ma no 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 questo mi cago sotto ma fino a diman no 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 ma queste zuppe queste zuppe sozuen queste zuppone di fagioli carote già lo so queste qua sono cagarella istantanea fidarsi è bene non preferisco stare digiuno piuttosto che cagarmi addosso per tre giorni di fila adoro c'è Ferdinand base no 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 va bene grazie fidarsi è bene non fidarsi è meglio ve lo giuro già ho avuto già ho avuto esperienze del genere preferisco stare digiuno ve lo giuro raga che il santo ha sempre fame che io uso tante energie durante la mia giornata allora Maxetiello io la ringrazio andiamo sul mio account cagarsi addosso fa perdere chili a bestia eh vabbè c'è capito ci sono dei metodi alternativi che preferisco decisamente allora vogliamo gerzigno eh france è complicato allora abbiamo Raff e Cassanigno ci siete da Cassanigno sicuramente Raff c'è ancora uno smash burger doppio finito adesso molto bene è vero Sozone è vero perciò sono chiatto ah ma voleva valorizzare la pratica poi mi ha proposto te lo frullo? certo Apollo Yapo a voglia grazie mille stavo dicendo la stessa cosa ecco ne faccio anche la salsa tipo Crispy McBank non dubbio ma lei è un cuoco design lì non l'ho ancora provato CH ma sa di Nioscula? vero sì sì Apollo Yapo certo assolutamente sì ti piace cucinare? a me piace mangiare vai in Marocco per il cibo è una hit ci andrò prima o poi in Marocco impossibile entrare a non share play Raff poca roba Costanti è mio perfetto a volte cucino ma non voglio mangiarmelo eh voglio ah voglia sì io grazie Blank 5 di Debe si è sottovalutato no è fortissimo Raff non mi fa entrare nel party libanese l'ho mangiato quando stavo in Gran Bretagna una delle peggiori esperienze che io abbia mai avuto cibo povero povero nel senso che non ti sazia pagato un botto di soldi esatto e sono stato due giorni in bagno e io ho uno stomaco di ferro vaiù cioè io mi mangio mi rosicchio pure il pad e sto bene panino col prosciutto crudo allora signor Raff mi dica un nome in Grecia in Grecia in Grecia tu pensa che io ci lavoravo in Grecia no quindi stai due tre mesi lì ti fai amici tutti quanti va bene Cassani vai là 5 euro ti danno tutto ti danno pure la moglie la sorella R9 passa la paura beh beh pensa a un glitch versculare Lineger ci perseguita Todi e Todi bra prenderei Chavi signor Raff allora andiamo da Cassanignolo l'uomo che sussurrava alle SBC va benissimo caso grazie a lei Raff bello mio sempre a disposizione l'uomo che sanciva lo sculare degli altri ma non il proprio sussurrava bestemmia allora signori se volete hackerare un account ci sono 21 milioni di crediti il PSN è Cassanignolo underscore cback potete entrare nel suo account vi autorizzo io perché in più vi troverete anche un account con R9 primo proprietario Toti allora questa è la situazione mo' Cassanignolo che ti piaccia o no quest'aicon verrà tirata fuori dal culo di questo cavallo che per praticità chiameremo Padillac io apro ma non vedo allora vediamo se ci sono doppioni attenzione abbiamo uno già posseduto lei chi ha già posseduto signor signor Cassanignolo allora abbiamo un 84 di fisico hai due icon molto bene miglior attiti intorno al milione vampersi 76 di difesa chitte murte è tedesco sì 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 digno non credo abbia 76 di difesa e 80 di agilità non ancora vince purtroppo non l'ho ancora trovato sidwerf il doppione era clarence sidwerf andiamo con quello centrale oh 84 di fisico bene 99 precisione testa bene 88 di dribbling 88 di passaggio con 96 di visione 94 di corto e 96 di effetto 80 di tiro ah lui ha già digno e 83 di velocità oh vedi questo in realtà non è un icon che hai trovato Cassani ma è una è un invito a farti il suo stesso taglio di buffo ma abbiamo la terza non demordiamo signori abbiamo il terzo giugador prossimo lento attenzione 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 a spero sia baresi attenzione casanigno casanigno 84 di passaggio 80 di tiro 82 di velocità non è e vabbè abbiamo scherziamo pure oggi beh io prenderei comunque Petit piglia Petit che comunque almeno è giocabile è francioso è comunque qualcosina di simpatico ah c'era pure questo bel pacchetto bronzo premium molto bene tu ti meriti di giocare con questa squadra tu ti meriti di giocare con questa squadra in weekend league e devi trovare lui stasera nel let poi poi esce il video di sn danni 4 4 3 non sai manco scrivere 4 4 3 ce ne sta uno in più 3 2 2 2 2 2 2 2 non esiste come modulo 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 kev chi è kevin suo figlio ma lei ha chiamato suo figlio kevin non ho capito che è scritto danni io 8 8 3 non c'entra non c'entra nel gioco lei ha chiamato kevin suo figlio signor c'ha pure il codino guarda qua sto pusca è tutto ingobbito 41 partite 88 gol queste sono tutte squad battles per far per far le evoluzioni giro la alex guarda là guarda guardate quante partite guardate qua guarda qua guarda qua guarda qui qua c'ha i cinesi e c'ha i cinesi e gli indiani in panchina guarda 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 qua chiediti questo di non so se voglio sapere vince sempre se gioca in 12 bravo molto bene verenardo toti sculata alisson toti sculata ragazzi lui ha fatto il glitch dei pacchetti infiniti il giorno prima dei toti eh no dani molto bene castanigno io la ringrazio andiamo da apolo iapo abbiamo pure il party di caso di max ediello molto bene come si chiama il playstyle dell'affronta in inglese jockey padillac jockey per allora padillac se vuoi su footbin se vai sulla sezione di tutti i playstyle anzi adesso ti mando il link lo mando proprio adesso guarda qui ci sono i nomi di tutti i playstyle in inglese vado apolo iapo poi fabio non c'è male x a lei che si dice x come si chiama il playstyle allora ho risposto oh droppa ronaldo via irà signori poca roba dai buono ma è meglio quell'altro signori questo è il glitch definitivo cassanegno impari cassanegno impari perché così si scula allora si apre prima il pick if dove si trova ronaldo if dentro arauco e qua si trova uno tra ronaldo e via irà e ti dico che c'è sa pure check tody ma lo stavo dicendo zola sto guardando c'è uno sto provando a fare che se non la faccio sto vedo non la faccio mai beh ci sta sabbia beh è andato sicuramente meglio del tuo eh cassanegno stil totai infatti si ma zola è forte zola non è male zola non è per niente male ci sono pure pack le prendo zola ovviamente e su 7 e su 7 cantona con le più grosse fatte zola va in tribuna competì non credo non credo non credo le prendo zola no apolo no felice non è overprize è semplicemente meno droppato degli altri tutto 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 va bene prendo zola dai credo che tra l'autor e vannister ok ah però ci sono anche dei packs vediamo un po doppio 86 oh 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 triplo 87 e voi max si senza problemi portiere tedeschio noia grazie per non avermi trovato la mazza anche questa volta vedo come disattivare l'abbonamento di 6 mesi a disposizione ah che faccio con questo bro vi faccio un video più tardi Achille ve lo faccio uscire penso domani mattina o in serata tarda su youtube vediamo un attimo che tempi c'ho ah perché pure il riera scambiabile ma dubbio se l'hai trovato si butta un esbisim comunque non so se hai visto in caso guarda ho finito partito se vuoi ti ho mandato una foto e avevo visto che mi era arrivata una foto del di un non esiste un detersivo che non esiste va bene va bene è un detersivo che non è sul mercato è assolutamente fake non è un fatto con l'intelligenza artificiale scrivendo cose a caso sulla tastiera ho detto no 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 grazie io io sono di napoli io non mi lavo non uso saponi non uso detersivi va bene va bene allora vado un attimo da max scherzo ovviamente va bene se è un todio ho questo nuovo l'upgrade c'è ma sono praticamente uguali quello che costano questo se non sapete cosa mi ricorda quando uscì la sbc del piro a natale rispetto al del piro base molto simile come tipo di paragone quindi per ora si può schippa oh vediamo un po' max edielo come si presenta ma no no max è la prima volta che vengono vedo questa squadra vediamo max edielo cosa ci vuole far aprire ancora max sempre ah c'ha una bella icona totale max edielo so merita eh bro max non scula mai max una bella sculacchiata sa deve fare let's go che meme che meme tra l'altro cantonà l'avevi messo dentro cantonà no massimino no che meme stil totale cantonà cantonà cantiello casatiello vabbè vabbè io prenderei ciabi alonzo mi ha finito cantonà due ore fa usando cantonà che è cantonata fortissimo ciabi top 5 cc beh devo dire che in questo account servivano proprio dei centrocampisti centrali regà sì e nico servivano proprio dei centrocampisti centrali in un account del genere eh bisognava sostituire no no mi sono spaventato bisognava sostituire un attimo Goretzka in panchina rolfo socrates gullit essien boh che c'è sta bruno ciabi alonzo zidane gerard chiameni kimmich e gundogan snyder marquez tonali kessler dilemans musa park ciabi alonzo ciavi clark lo botte lo cocia lo cocia gullit ugarte ad li rai guardate gol serviva proprio sostituire un centrocampista no so che adesso fa l'album con la destra rolfo a sinistra e metti ciavi no non credo non credo non credo max è uno squadrone beh sì beh sì 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 decisamente sì peccato per questo un bappe oro tanto tra poco non ti preoccupare max che con i tots si diventa tutta blu sta squadra credo che l'unico che rimarrà in questa squadra sarà lui e non ne sono manco sicuro perché non sono manco non sono non sono sicuro che questa sarà l'ultima card di gullit quest'anno coiola ad aprile ma è il più forte di tutti Apollo Allora caso se voi ci sei oppure torno da te Apollo Apollo che bella st'immagine il profilo che c'hai tu Apollo Apollo che è un mix tra un signore nostalgico del 1945 in Germania e Kung Fu Panda e poi c'è caso con le paperelle è una chat di tirapie di sculoni e ma perché Cassani si sono piano piano rosicchiano e si rubano il santusculo lei adesso sta iniziando dopo tre anni di notte in parti privato no Cassani così non funziona sì Ale adesso esce anche il video bello mio Lampard gladiatore Garrincia Winter è ancora valido sì con un falchetto giocabile no Luca il santusculo funziona eh vedi che hai trovato Ale McAllister e Cruz invece a centrocampo Kimmish e Ciabialonzo conviene fare il sieno al prossimo no eccoci qua Futsheriff se signa looks incredible l'abbiamo finito di fare ragazzi quando Futsheriff scrive le cose su quel cazzo di twitter di merda la community impazzisce Gashini è ormai datato è un buon difensore centrale ma secondo me c'è di meglio HFU ok 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 se signa looks unbelievable oh nigeriano mi piace a Cassanigno eh triple if nigeriana c'era palle inattive no però c'ha forte di testa l'abbiamo provato stasera Oreo molto forte buonasera Cassanigno buonasera triple 85 grazie a lei Alan no Odegaard ti seguo ufficiale sarà mica Padilac no in realtà sono io Padilac cioè sono io Futsheriff molto bene non lo so Luca grazie per la sub e grazie mille a Oria per il quarto mese bentornato e punto esclamativo gruppi per rientrare nei gruppi sub bentornato anzi non ho mai perché 91 vedo caso ci sei tu? ecco svelato il mistero yes no perché mi hai rinvitato al party vado un attimo da Gianni e poi arrivo da caso arrivo Rodito ciao Spirol grazie ancora Oria per il quarto mese bentornato va bene Padilac va bene mo vedo vedo un attimo di di youtube che devo fa no no non ti preoccupa da caso figurati comunque con troppe carte non si capisce niente quest'anno va bene meglio troppe che troppo poche Albo più scelta è meglio che non scelta allora abbiamo questo cialobo che comunque 3-4 normale alto 91 di velocità questo cialobo lui e Turan purtroppo ci hanno fatto fare una brutta fine da inizio anno però meno male che abbiamo aggiustato il tiro durante l'anno dai allora vediamo un po' che pacchettozzi ci abbiamo Gianni per il meme grazie per la sub grazie per la sub grazie mille Dario per il secondo mese bentornato e punto scadio gruppi anche per lei se deve rientrare nei gruppi sub signor Dario Gabriel grazie mille ragazzi grazie a tutti per il big supporto credo di sì Padilac anche magari uno di quelli là rapidi sai come stiamo facendo ultimamente che poi vanno bene per tutte le platform magari Raulito vuole fare una roba mentre io pubblico il video su tiktok di Sien mica se li vuole aprire lei con molta calma questi questi pic cioè contiene lei il controllo così io vi pubblico il video di Sien che dici allora questo va qua mi vuoi cambiare un attimo il titolo della live per favore scrivi apro 50 pic apro 50 pic ho 40 però va bene lo stesso li possiamo scammare un po' tu 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 riusci a a prendere il controllo cosa alza alza apro 200 pic allora review no no vuoi prendere tu il controllo un attimo del della condivisione schermo perché così io mi pubblico un attimo il video mentre tu ti apri picchettini che dici grazie gabriel jesus no non ti preoccupare lì tu figura ti ci mancherebbe allora benvenuto nel canale del film più bello d'Italia oh lecchino sto bot il comando non è stato assolutamente fatto da noi il comando è assolutamente fatto in maniera automatica da twitch non non è assolutamente creato da noi questo comando è un comando autonomo del bot Sheridan oh ma che che drop c'hanno stisi cosi perché secondo me mi stanno prendendo per il culo a fuori di risolvere la pratica senza fare nulla no veramente non lo so in teoria dovresti cercare di mettere tipo contenuto mancante ma purtroppo questo è un bug che ci sta da inizio anno ma Michi io ho provato a segnalarlo anche per via ufficiali ma purtroppo nada snesni è la soluzione a tutto se hai problemi anche all'interrogazione ti basta pronunciare snesni per essere promosso subito promosso subito dopo dire ciupa vedi questo bot intelligente scupo Alberto essenziente il tipo di riconoscere la bellezza oggettiva vedi easy 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 bot squeezy costic quel che è costic invece no ha preso Jakobson belli sti picco 81 o più comunque ti devo dire la verità ecco molto bene cheat oh no mi sono spento il pod si arrivava quando esce settimana prossima ha parlato entro a casa metto nel tuo canale me la prendi di chatanate per formare sette da parte puskas di me sul muso no meglio puskas direi djb continua a sfotterli vedi 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 sti picco di merda oh hai trovato il santu santu un al ne trova mai un cazzo da sti picco buono beniedder che drop vergognoso questi picco 81 vedi bibo quando attraverso la strada i gattini si toccano le palle bravissimo bravi hai capito tutto vedi 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 martens e castello castello di martens eccoci qua e mo lo mettiamo pure su instagram ruben neve oh modric mi mancava modric non lo vedevo da qualche pacchetto da da qualche da qualche giorno kante review sien ecco questo può andare qui ciao luno 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 vende buono per le evo eccoci qua questo può andare così fabbigno ma no quanto mi manca quanto mi manca inizio gioco giocare con la premier scarsa con fabbigno davanti la difesa slobozai odegard ciao axorigno stanno facendo qualche pic per fare socrates e boom gerzigno eccoci qua l'hai detto eh dal pic 81 ho trovato gerzigno noi troviamo flimpong fantastico la port review sien eccoci qua bruschetta vediamo il prossimo madonna mia oddio ma so maestipic acerbi e dia non possono stare nello stesso pic però no vabbè ma quella è una condizione è una condizione particolare non 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 è vero buonasera peppe laroccia mi stavo facendo qualche pic per fare l'am e boom o bentancur noi kovacic mi avevo trovato un lampard Dario mi avevo trovato un lampardone e avevo trovato pure salvador da lì droppano poco 82 83 qualche 84 85 avevo trovato un lampard vedi eccolo lì però è sempre a culo diciamo che ho visto dei pic 81 durante l'anno droppare meglio di questi di stasera ecco però se avete dei doppioni di overall basso sai oro comuni oro rari ci sa buttarli là dentro a cazzo molto bene signor gianni io la ringrazio e vado da the real caso ue Mauro buonasera andiamo da the real caso che ci ha portato anche lui un bel po' di contenuto attenzione Mauro ha inviato un'immagine e voi quando inviate un'immagine eh ho visto già un doppio arancione e un bianco eh guarda qua 16 oggetti questo è il pacchetto dei centrocampisti nel negozio da 500 fc points eh va bene la rito grazie mille questo è il pacchetto da 500 fc points eh sì Dario non è male punto scavativo ci abbia Lonzo che bello questo cacà lo vorrei trovare anche io anche io cacà nel 500 fc points mi sembra che anche io mi sono usciti tutti e due rosicchi nello stesso mamma mia raga ma come cazzo fate a sculare così eh no sono 5 euro l'humanoide ha inviato un'immagine ci credo ci credo no no manco da companion capi ha loggato dal da 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 prima Gino là questo quando l'hai trovato domenica ah ho capito in 6 giorni in 6 giorni tu hai trovato Gino là e Gerzigno ho capito ho decisamente ha compreso ma picchi bene bene molto bene oh dici inglese no non è Campbell no 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 mi sono flashato no no tutti i doppioni avendo la prima di Marato Buscas dal pacco 3.5 è un pic Viddich secondo te Viddich è meglio di Van Dijk 91 molto simili a Van Dijk 91 però Van Dijk è sempre Van Dijk per stavolta lancia ma tanto caso se i presupposti sono questi mi sa che ogni pacchetto è così arrivo Apolo mi sa che qua ogni pacchetto sono tutti i doppioni le scende di prezzo park che sono tirchio sì non ti preoccupare 4-5 giorni buonasera Kratos non l'ho ancora provato Cordoba Steph però mi sembra una card interessante se ti piacciono i difensori centrali piccolini piccoli come il cervello di questo pichi che è venuto in chat adesso per la bannata Crouch Crouch e Pavoletti Crouch no Nazgullo non ancora sotto 85 niente in che senso sotto 85 niente è nada vabbè però 89 89 bonus 183 no a senso non esiste Nazgullo le review a senso non si fanno prima ho criticato le persone che dicono a sensazione non vanno a sensazione a sensazione a sensazione a sensazione no regà i trovatori vanno provati compralo provalo e vedi come ci trovi sono indeciso tra lui e chiesa ma io 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 prenderei cagao perché caga secondo me è più divertente ma per una questione che uno è icon capito cioè le icon sono sempre più divertenti da utilizzare mi fai la classifica delle sbc giocatori ora disponibili dipende dalla tua squadra socrates sicuramente cantonà ciò a meni non mi ricordo manco chi sta disponibile in questo momento in realtà non so tante lesbici che sono veramente forse james è ancora disponibile sì diego giarsino non l'ho ancora provato no socrates è sempre superiore perché socrates è un animale shiller non è divertente da utilizzare prendo rivaldo o zola preferisco zola io c'è il cane che abbai a nage amaron 784 i giocatori del pass sono tutti giocabili sia insignia che bellerina che mccandy non sono per nulla male immagina fare un pass dove il peggiore dei giocatori è l'ultimo che si prende è certo che è una sculata studio buono sto pack ho trovato saul if ed è estinto avrà qualcosa di speciale nella evo la miglior difesa dell'attacco non lo so ma non lo farei assolutamente oh era bonus 784 comunque 2 if un 90 oh park pezzotto mannaggia che belli sti playstyle di park comunque no ma non sarebbe uscito caso non usciva uscivano questi due qua li sto schippando tutti comunque marquez o campbell campbell dal 784 è uscito cordoba e quel cordoba pure pure molto interessante secondo me da testare cordoba caga me li accollerai incredibilmente io metterò park al posto di bruno sì luke le icone escono pochi d'artificio ma io sti walk out quest'anno non mi sono piaciuto proprio devo dire la verità l'animazione spero che la la cambino l'animation spero che venga venga assolutamente sistemata sono brutti colori sono brutti oh kewell no sono brutti colori è lento è è monotona e se ogni dava più una lira a quel carvaglio prenderà un bel più due cosa anche il cabriolet è diventato scam che devo fare caso mi dica lei 183 mi fermo mi fermo i colori sono tutti confondibili sono d'accordo 87 86 eh qua qua c'è da fermarsi qua c'è da fermarsi eh ok dai grazie mille signor casariello allora ritorniamo da avolo iapoc se non ero c'è tipo un icon e vedo un momento il da farsi si può coprire certo grazie a lei signor caso allora signori io credo che ci droppa Pelé eh vabbè ma questo veramente si chiama Pelé sì 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 Aleguene certo Brian Pelé questo si chiama 90 di agilità e 90 di equilibrio forte 1,69 m droppa sempre presente Lucas droppa allora signori dopo Lucas droppa e Brian Pelé si copre e si apre con questa immagine devastante allora vediamo se c'è qualche doppione innanzitutto no non ci sono doppioni e vediamo un po' che roba golosa ci ha regalato per questa EA per questa chiusura di serata 85 di fisico 99 di difesa no è hierro questo no eh qualche settimana fa mi causa cena mi sono perso i testi stasera mi recupero la live allora quindi vedi che se vuoi c'è già il video di SN e poi vi faccio uscire appena ho i video le review dei giocatori provati quindi i video sono in uscita madonna chi è quest'altro scappato tipo scholes madonna mia quell'83 intercetto 84 preciso ne testa mamma mia mi ricorda sempre scholes e vediamo l'ultimo fenomeno madonna madonna c'è ma scusa ma questa come fa a essere un icon questa questa che hai questo è un oro raro di inizio gioco raga questo è un oro raro di inizio gioco 79 di reattività 78 di effetto 75 agilità 80 di forza 80 resistenza 55 aggressività 81 tiro al volo 79 mancinazione chi cazzo è su scarparo madonna mia richelme uno giocatore più forte alla storia ridotto acquisto molto bene signora apolo iapo io guardi mi vergogno quasi di cliccare per lei di scegliere per lei e detto ciò signori allora vi vado un attimo a registrare il video sulle evoluzioni uscite stasera vedo un attimo che vedo un attimo che che cosa fare perché vi voglio fare anche una guida oltre oltre che al consiglio dell'evo ci vediamo domani credo che domani mattina streamiamo alle 12 13 e 30 magari facciamo un po' la mia weekend league con la squadra nuova ok grazie a tutti ancora per la giga mega ultra fantastica incredibile compagnia ci vediamo domani buon sabato sera mi raccomando fate bravi sono abbastanza stanco in questo momento buona serata grazie ancora a tutti per il big supporto anche di sabato sera 6 aprile 2024 vi ricordo che questo canale streamerà fino alla fine di questo gioco a settembre mi prenderò giusto una settimana di pausa a fine giugno una dopo 4 anni mi raccomando ci vediamo domani ciao